cinture stasera ok ci allacciamo le cinture Marco ma doppia mandata oppure basta una mandata sola che dice? senza paracadute stasera senza paracadute mai indossato il paracadute mai indossato il paracadute si salta senza vediamo intanto di nuovo buonasera a chi si è collegato adesso a chi si sta collegando a chi ci guarda da youtube vediamo un po' i vostri volti ormai a me familiari ma vedo Barbara, Eric e Sandra c'è Antonio e Monica Claudio e Valerio Arendille buonasera Daniela Ornella vediamo un po' chi c'è anche io saluto quelli che hanno il microfono il video aperto Cristina ciao Cristina Laura Antonia ciao vedo Luigi in un ambiente che mi è abbastanza familiare ciao Claudio eugenio l'ho visto la Francesca vedo vediamo un po' nell'altra pagina faccio un un escursus veloce eh Denis Ezio Sebastiano buonasera poi chi vedo là vedo Carla Roberta Letizia Daniele e Sergio Rossella buonasera è entrata a casa Rossella buonasera a tutti Maria Giovanna ci abbiamo Michelle buonasera ciao Gianni buonasera qui adesso vi spostate come un puzzle animato e tu che i tasselli Maria Grazia ciao Maria Grazia ci sarà anche Salvatore nelle vicinanze dunque anche Salvatore eh qualcuno ha il microfono aperto mi sento che torna l'eco della mia voce la French buonasera ok poi Alberta Pina tanto mentre mentre vi saluto così almeno eh mi oriento allora eh premetto premetto e ve lo dico col sorriso anche se poi forse il sorriso mentre parlerò magari non sarà più lo stesso ma diciamo comunque l'intento eh amorevole con cui vi parlerò sarà il medesimo eh mi scuso se qualcuno si sentirà toccato da quello che vorrò dire eh non è intenzione diciamo colpire qualcuno o ferire qualcuno o eh sapete che io prendo sempre spunto da quello che che capita voglio dire alcune cose che riguardano eh da una parte che riguardano me ma non me nel senso che riguardano me perché sono eh rivolte anche al mio indirizzo ma non riguardano me dunque se non ci fosse questo popolo meraviglioso qui davanti eh probabilmente non non riterrà neanche opportuno parlare di certe cose perché per quello che mi riguarda sono in in armonia ma quello che avviene però deve essere visto e deve essere reso e ottimizzato deve essere motivo motivo di 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 osservazione è Sergio Giacomazzi che ha il microfono aperto perdona Marco ma si sente il rumore sotto deve essere motivo per ognuno di noi di di fare un click in più allora senza tanti senza tergiversare oltre eh inizio così dicendo che personalmente sono alquanto stanco di sentire eh adesso parlo per quello che mi riguarda ma un attimo dopo diventerà qualcosa che riguarda tutti noi sono molto stanco di vedere dinamiche che si eh perpetuano ancora dopo ormai che ci conosciamo sono per quello che mi riguarda sono tre anni ora che cosa voglio dire voglio dire che in assoluta integrità e e sono tre anni che parliamo di assoluta integrità e in questa e e in questo spazio no questa singolarità che ci vede qui ogni volta con i migliori intenti parliamo e tocchiamo argomenti che sono non di supporto sono parte integrante sono l'anima più profonda più autentica più trasparente più vera di quello che noi esprimiamo anche attraverso la scrittura anche attraverso i documenti uno non può essere staccato dall'altro sono un tutt'uno ora perché vi dico che sono stanco perché per quanto in tanti in tanto tempo anche negli ultimi anni insomma diverse volte sento cose anche al mio indirizzo che mi vengono affibbiate in maniera poco onorevole anzi in maniera totalmente disonorevole normalmente dico vabbè ma di che sto parlando che gli vengono affibbiate le cose Carmela se mi se mi se mi fai finire poi dopo potete naturalmente diciamo dire la vostra ma non nei miei confronti cioè nel senso facciamo sì che questa cosa non sia una cosa prendiamo spunto da queste cose allora le dinamiche che io sto osservando ormai da diverso tempo sono dinamiche che non condivido e interessano questi aspetti uno il parlare alle spalle due non avere il coraggio se c'è qualcosa che non va da uomini vivi in trasparenza e onore se c'è qualcosa che non va si cerca l'anima direttamente interessata la si affronta ci si confronta ci si mette di fronte e si parla invece questo non avviene e avvengono dinamiche sistemiche che conosciamo bene che non fanno parte di UPPT fanno parte proprio della natura umana ma in questo luogo noi ci siamo sempre ripromessi di cercare il più possibile di vedere certe dinamiche per poterle trasformare per poterle sublimare a volte per poterle silenziare o anichilire a seconda di quello che serve questo non sta avvenendo avviene in parte dunque per questo che mi scuso per quello che sto dicendo se ferisco qualcuno ma chi non si sente toccato non ha nulla da da essere però lo prenda comunque come spunto di riflessione ora per quello che mi riguarda sentire delle menzogne nei miei confronti anche basta basta il basta sentire frasi tra virgolette il covo di demoni basta frasi si sente tutti i giorni con MDM basta frasi ah lì si fa questo si fa quell'altro basta frasi del tipo come era i fatti di acuto i fatti di acuto i fatti di acuto tutte tutte queste cose che vengono dette non in trasparenza instillando delle informazioni dubbiose lacunose che vissute nella in quella in quell'aspetto crepuscolare dove si riesce a capire dove è la verità e dove non è la verità e questo per quello che mi riguarda ora tolto il me questi aspetti sono quelli che io sto osservando dunque adesso cancellate il a chi sono stati rivolti ma osservate le dinamiche che continuano ad esserci questa cosa non può essere non può essere qui non può essere quello che noi vogliamo fare se abbiamo qualcosa da dire si alza il telefono e si affronta ma non è uno sfronto a modi duello è un vero confronto ho un'informazione non mi torna ma è possibile che si vada l'interessato non che l'interessato o l'interessata si evita e nel frattempo si sparla in giro o si montano menzogne su menzogne o si distilla il dubbio questa roba qui è presente e non diciamoci che non è vero siamo siamo in una fase siamo in una fase del nostro sentiero che è importantissimo e con la bocca diciamo alcune cose e con i fatti siamo subdoli su altre questo non può funzionare io stavo riflettendo chi lo sa chi ha vissuto questi giorni anche qui da me si parlava del burro di chi io non sapevo neanche che cosa fosse è il burro chiarificato e lì ho avuto una cosa proprio chiara di quello che sta avvenendo in questo periodo come siamo come il burro di chi la nostra fase adesso è come la preparazione del burro chiarificato man mano che si crea questa schiuma si scansa le cose emergono si scansano poi rimanere il concentrato la parte sana la parte che è curativa la parte che è lenitiva la parte che è utile ma sembrerebbe che da un po' di tempo in qua le energie che stanno lavorando sotto dunque per questo che dico non prendiamola sul personale ma ognuno di noi si metta nella condizione di osservare certe dinamiche sembra che dentro di noi si è stratificato si è diventato quella convinzione di essere tutti eterne essenze realizzate e materializzate non è così togliamoci dalla bocca certi termini se non vibriamo in quelle frequenze non basta conoscere le cose non basta sapere aver letto i libri per capire come si esce da un corpo per andare in astrale e i piani superiori i piani inferiori la legge naturale ma che cosa credete che basta sapere le cose quando poi un attimo dopo l'incoerenza è più è più è più chiara del sole stesso al mattino l'incoerenza che si vede non sono arrabbiato ma dentro di me c'è il basta qualcuno tempo fa all'orecchio mi disse o parli o taci o parli o stai zitto e io dico vabbè ma io sei un po' così ma si lascia fotte ma si tanto la roba mi scivola e va bene non va bene non va bene manco per me e non è andato bene manco per me perché dentro di me quel senso di dire le cose per quello che sono magari sbagliando sbagliando non sto dicendo che quello che io dico è giusto sicuramente è trasparente sicuramente è diretto io questo vorrei vedere questo vorrei sentire questa energia e se le cose non funzionano se c'è qualche cosa che non va non bisogna venire in zoom dicendo e non dicendo a denti stretti facendo capire io so che tu sai che io so però qui non lo dico o lo dico a te ma non far sapere che queste cose nel mio presente e il mio presente è già tutto realizzato non esistono nel mio passato vedo questo questa roba qui fa parte del mio passato fa parte del nostro passato lo sappiamo vedere o dobbiamo continuare ad abbracciarci a fare i sorrisi anime belle anime belle ma quando io dico anime belle è perché io vedo anime belle non è un claim per iniziare una puntata radiofonica non perdiamo di vista certe cose ma sorge la presunzione vedo presunzione che galoppa vedo e sento cose che 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 non non sono neanche descrivibili da quanto sono in in totale assenza di coerenza e presunzione e voglia di prevalicare e voglia di sfidare e voglia di affermare qualcosa ma per poterlo fare bisogna abbassare l'altro questo non appartiene a questo popolo non è roba nostra questa roba qui perché nessuno deve elevarsi a qualcosa e se anche fosse che agli occhi di molti una determinata anima possa sembrare più elevata per certi aspetti perché dovremmo conoscere tutta la totalità di quell'anima ma se anche fosse questa verità emergerebbe da sola non siamo più alti se tagliamo le ginocchia chi ci sta vicino questa roba deve finire e non è un comando non è un ordine questa roba non appartiene a questo luogo non appartiene a quello che stiamo creando e allora guardiamo un po' di meno alle belle frasi e cerchiamo di vedere dentro di noi cosa realmente sta accadendo cerchiamo di trovare quell'entusiasmo che hanno i bambini quando dicono le cose e si emozionano e vibrano nella verità di quello che stanno sperimentando non nella simulazione di essere diventati chissà che cosa bravi a fare documenti o bravi a descrivere le leggi naturali piuttosto che boh hammer o piuttosto che tutto quello che stavo dicendo in romano mi trattengo per amore nostro silenziamo queste cose ve lo dico con il cuore veramente con il cuore silenziamo queste cose non ci appartengono personalmente quando vi incontro che mi abbraccio sia sincero se non mi volete abbracciare non mi abbracciate piuttosto di abbracciarmi quando mi vedete ditemi Marco aspetta un attimo stop abbraccio stop ti do prima di una cosa parliamo ok poi ci abbracciamo perché quell'abbraccio deve essere vero dal primo all'ultimo e non abbraccini con la pacchetta sulla spalla momenti in cui ci parliamo grandi sorrisi grandi abbracci e un attimo dopo viene a sapere che che la stessa anima che ti ha abbracciato ha detto della roba da UFO questa roba deve cessare ma non perché lo dico io perché fa male all'anima e non si va da nessuna parte con anima malata e abbiamo la gioia di poter condividere con altri anime quei talenti quei valori quell'amore che ci risana soltanto per la presenza non perdiamo questi attimi non perdiamo questi momenti di quello che ho detto non toglie nulla neanche una piccola particella alla bellezza che io vedo in questo momento belle grazie ora facciamo un bel respiro sorridiamoci sorridiamoci perché in tutto serve sempre la leggerezza poi che è un flusso sottile che fa scorrere le cose anime belle vedo che ci sono delle mani alzate bene benissimo passo direttamente a Emanuele oh Barba volevi dire qualcosa prima? non so perché siccome la mano ce l'avevi già alzata prima vai parlare tranquillamente prego Emanuele ciao buonasera allora buonasera allora dopo essermi sorbito questo predicozzo molto minaccioso tra l'altro e quindi mi stupisco che poi ci sia ancora qualche d'uno che avrà coraggio di parlare io però invece il coraggio ce l'ho sempre che sono il rompicoglione numero uno e quindi lo faccio e quindi dico come lo devo dire allora dall'ultima volta quando Barbara ha elencato diciamo come si può dire ha letto il suo affidavit sono rimasto molto entusiasta eccetera e ho immediatamente mandato il mio il mio autografo no poi sono venuto a sapere insomma da lei stessa nel senso l'ha detto anche no però poi ci ho ripensato e ho detto però c'è un affidavit c'è un affidavit scusate un documento no così segreto no così che praticamente vorrei sapere cos'è perché a un certo punto io non posso autografare qualcosa che non conosco no fino ad oggi si è sempre detto che non si può avallare cose di cui non conosciamo no quindi appunto praticamente ho chiesto a Babar di vederlo no e così gentilmente me l'ha mandato è un documento che non si legge niente cioè proprio non ha definizione capito quindi non 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 è un documento per me che si possa girare al sistema per ottenere qualche cosa perché se non si legge cosa diavolo significa non si capisce chi l'ha firmato non si capisce le date esattamente i luoghi eccetera inoltre sapendo che questo documento sembrerebbe che ci è stato girato da un certo signore MDM e che io ho ascoltato nelle ultime negli ultimi video che sono stati postati no e quelli della terra campana mi sembra così nella puntata numero 2 a un certo punto questo signore fa tutte delle affermazioni completamente demenziali completamente fuori di testa questa qui è la mia spassionata opinione non ce l'ho con l'uomo cioè per me è uno simpatico anche però capito quando uno passa da un argomento all'altro il palo o un frasca senza assolutamente a fornire alcuna prova di quello che afferma ma soltanto bisogna basarsi sul fatto che lui è il re del mondo o qualcosa del genere cioè ragazzi io dico questo personaggio è molto pericoloso per noi proprio non tanto quel documento ma proprio l'uomo perché quest'uomo qua con le sue affermazioni deliranti farà sì che perderemo tutta la credibilità quel poco che siamo riusciti a ottenere fino ad oggi capito e la Barbara per prima perché lei facendolo permettendogli di esporsi in pubblico fa sì che ci rimetta lei per prima ma poi tutti quanti quelli che seguono questo percorso eccetera quindi io semplicemente ho voluto avvertire Barbara che questa qui è una cosa molto pericolosa e che quindi io pretendo di avere spiegazioni chiare da quest'uomo se questo documento fotocopiato male esiste veramente e se è in mano sua ce lo faccia vedere ma l'originale non una fotocopia fatta non so come l'abbia fatta perché le fotocopiatrici di solito hanno un'ottima definizione no pure i cellulari il giorno d'oggi quindi non so dove diavolo abbia recuperato quel documento per me l'abbia recuperato non mi ha idee non sto manco a dire diciamo per me è soltanto una panzana come tante altre come quella di volare come quella di passare dei baratri camminando capito parlando di cose allucinanti come l'apostolo dodicesimo apostolo cioè delle cose oro che cola a tutte le parti che non si vede mai miliardi che non si vedono mai cioè tutte cose campate per aria senza nessuna prova e siccome fino ad oggi io ho sempre sentito Barbara e noi tutti sovrani che parlano sempre di prove quando facciamo un affidavit lo facciamo parlando di cose inconfutabili no di fatti diciamo è vero sì no è confuta ecco allora io direi che il signor FDM io gli dico tutte le cose che ha detto quella volta no io gli dico è vero sì no confuta cioè voglio dire prova cioè non così prova prova provamelo fammi vedere qualcosa io non posso fidarmi di uno che semplicemente parla 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 e parla manco in un modo continuato perlomeno io sto dicendo delle cose che potrebbero essere d'accordo ma io sto facendo un discorso che ha una logica dall'inizio alla fine non passo di parlo frasca non mi metto a parlare adesso di un'altra cosa dicendo una mezza frase comincio una frase non la finisco poi ne comincio un'altra questi sono modi manipolatori lo volete capire sì o no sono modi per ingannare la gente per andare in dissonanza cognitiva alla fine uno o si fida o non si fida di uno così e perciò ci sono quelli che si fidano che sono portati a seguire gente così nel superman eccetera capito ma io dai tempi di una bambina mi piacevano queste cose ma adesso cerco anche di vedere la realtà e la realtà non è questa continuamente io parlo sempre di realtà parlo di cose che avvengono al giorno d'oggi cose che possono guardarsi intorno questa è la realtà poi uno se la può immaginare diversa si crea la sua realtà piccola la sua piccola realtà benissimo sono felice per lui se riesce a vivere in un modo diverso e libero nella sua realtà creata da lui capisci ma la sua realtà che crea per lui o per il suo gruppo non influenza a me perché io ce n'ho un'altra intorno e anche se io penso in modo positivo se ho i miei pensieri che sono ottimi che sono di amore ma amore non amore 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 ti amo ti amo ma amore vero quello che è che io sono per il popolo voglio che tutti stiano bene che siamo felici e cerco di fare le cose per tutti tutto quello che faccio lo faccio per me per prima cosa ma lo faccio anche per gli altri cerco di condividere tutte le cose che io ho capito ho ottenuto per il mio vantaggio personale lo voglio distribuire ma io non vedo ciò in certi individui perché vedo solo parole 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 e quindi queste parole rimbambiscono e ci staccano dalla realtà e fanno sì che seguendo poi di certe cose che fa succede che ci ci brucieremo e io voglio dire attenzione perciò diciamo o ottengo che questo documento abbia una storia una verifica tutto tutte le cose che bisogna avere oppure io non posso ratificare questa questa denuncia mi dispiace tanto perché c'è un allegato che non sono d'accordo a meno che non possa farla io personalmente in seguito ma non c'è una nazione perché la nazione non può farne una diversa deve fare quella che ha fatto barbara quindi ci sarà questa allegato e allora io non posso dare il mio autografo eccetera devo costretto cambiare idea toglierlo e mi dispiace molto però io individualmente in futuro si possono mandarlo la mia ratifica la manderò però senza quello allegato perché per me è da farsi prendere proprio per il naso cioè voglio dire questi sono pazzi e io non voglio passare per quello a meno che non ci siano le prove perché io non dico che non ci sono io dico che non le vedo non ci sono ora e quindi siccome stiamo per mandare questa ratifica dalla nazione cioè io voglio vederla adesso perché domani dovrebbe partire in teoria e io non sono tra quelli che vogliono che parta e allora se è vero che dobbiamo essere tutti uno è vero che c'è l'unità come si dice la insomma quella storia lì capite bene che io allora dico non c'è e se non c'è è un problema vale la maggioranza allora allora vale la maggioranza allora vuol dire che se mettiamo su 500 100 non sono d'accordo va bene lo stesso si impedisce lo stesso allora vale la maggioranza non c'è più un'animità cosiddetta perché nessuno ha coraggio di dire niente capito perché perché nessuno ha coraggio di contraddire magari Barbara perché nessuno ha il coraggio di parlare dopo che tu hai fatto il pippone prima terrorizzato perché a me mi ha creato un'emozione anche se io non sono colpevole di ciò perché io l'ho detta le mie cose non ho fatto cose di sotterfugi ho scritto le mie cose nella chat di comune per cui voglio dire io sono tranquillo e trasparente però io le dico adesso tu hai fatto un pippone terrorizzante e non so perché fai queste cose sinceramente e non è la prima volta e anche la volta che ho fatto la presentazione c'è stata abita attorno in una città tu parli in un modo per demolire e fare in modo che un sovrano come me un individuo un uomo no sia denigrato praticamente senza denigrarmi direttamente tu sei sovravo sei in botanba nel parlare sono sempre stimato per come parli sono anche dietro di persona ultimamente stai usando la tua parlantina per focalizzare le cose in una direzione che non è più la libertà non è più il libero arbitrio quello che io invece dico ci deve essere dobbiamo essere tutti liberi di esprimerci come vogliamo e di fare le nostre scelte non si può seguire un leader anche se i leader hanno un senso perché non tutti hanno le stesse capacità ci deve essere qualche duro più bravo io ci credo invece nella figura di un leader però non ci deve essere a livello ufficiale per lo meno e quindi è giusto che ognuno faccia le sue considerazioni quindi invito tutti quelli che sono presenti questa sera che ha voglia di dire la sua dica in trasparenza in base a quello che ho detto però a noi su altre cose capito così tanto per confondere le altre io ho detto che questo documento è pericoloso che ci può creare danno se non abbiamo le prove della sua validità e sulla sua origine soprattutto perché è stato nascosto fino ad oggi e perché adesso come nazione abbiamo questa fortuna che ci è stato donato io voglio queste cose qua voglio sapere che il popolo cosa ne pensa se ho diritto di avere questa cosa questa questa certezza insomma e di chiedere questa cosa al popolo anch'io ok grazie per me ho finito il mio piccone meno male grazie Emanuele prego Carmela allora io vi dico questo il documento già l'ho sottoscritto e la cosa a prescindere da tutto diciamolo il nome di questo Marco De Mauro pare che è un tabù non si può dire avrà le sue fantasie ma io di Marco nel documento non c'è niente di quello che dice lui cioè a me mi ha convinto sapete che cosa il fatto che il documento già è stato mandato e ha colpito in pieno anche se resta da solo questo documento che non lo ratifichiamo e il sasso che ha lanciato Davide a Golia continuerà a fare il suo effetto cammina da solo perché è potente poi Barbara io mi fido di te questo Marco può generare dei dubbi e tu hai detto che il documento lo avresti questo allegato lo avresti letto secondo me un po' ci si è preoccupato perché tu hai detto chiedo protezione chiedo protezione io non ho paura di niente ma di che cosa dobbiamo avere paura dopo tutte le menzogne che ci hanno ingulcato che da anni ci sopportiamo ora va bene e Marco Magari De Mauro fa questa vita dice queste cose ma alla fine io non seguo lui come non seguo Barbara che non sono i maestri ma Barbara però ha utilizzato c'è questo documento che lo ha fatto Barbara e la Franci o mi sbaglio lo avete fatto voi è nato insieme a noi o lo ha scritto Marco non lo ha scritto Marco questo allegato di Marco non so come lui fa ad avere questi documenti è un qualche cosa del sistema che ci hanno nascosto lo conosceremo può essere utile ma anche che non lo conosciamo può essere che Barbara avrà i suoi motivi cioè se io non mi fido di Barbara non mi fido di voi non ci tra di noi dobbiamo avere questa fiducia ora avrà lei i suoi motivi per fidarsi di Marco però già consideriamo che il documento ha fatto l'effetto bomba sulla magistratura e già questo mi convince grazie a tutti un abbraccio grazie Carmela prego Filomena io mi sono allontanata dalla chat tutta la giornata e quando sono andata a leggere ho detto madonna no assolutamente no io l'ho già tradotto la FIDAVIT quindi quindi no comunque sono molto felice di una cosa che Emanuele abbia ragione o non abbia ragione però diciamocelo chiaro tutto quello che lui non si tiene niente sotto lo mette fuori ok questo per me è bellissimo perché è importante essere chiari se abbiamo dubbi se siamo incavolati se stiamo incazzati se stiamo facendo bene è bello comunicare fra di noi anche i dubbi su qualcosa o su qualcuno ne possiamo parlare no possiamo discuterne anzi se possiamo stare calmi facendolo magari con con gentilezza quello che è molto più pericoloso invece quello che sta sotto e non si dice non si vede effettivamente quello che diceva Marco no chiarezza trasparenza coraggio anche coraggio dice guardate io mi sto strabillicando per questo problema io vorrei avere della chiarezza vorrei avere vorrei conoscere perché tutti pensiamo in modo diverso possiamo magari come noi abbiamo fatti i concili noi questo no Barbara quindi ci sono i tavoli di lavoro abbiamo un problema cerchiamo di risolverlo questo è comunque vabbè come dice Barbara siamo bellissime Barbara perdonaci le nostre a volte incongruenze però effettivamente io non lo so tu avevi detto che questo documento lo avresti presentato che ce ne avresti chiarificato perché prima hai dato tutta l'attenzione alla insomma a a quello che è stato fatto quindi io stavo semplicemente aspettando che tu ce lo proponevi per quanto mi riguarda ho fiducia in me stessa rispetto tutti nelle loro competenze nelle loro capacità nella loro grandezza d'anima e no per me non ci sono leaderi ma ci sono semplicemente donne favolose da ammirare nella loro capacità straordinaria della conoscenza magari di loro stessi e di quello che sanno mettere in pratica e che altro dire non lo so Carmela ha detto il resto quindi va bene così quindi andiamo avanti facci vedere questo documento Barbara discutiamone e vediamo che se ne può fare comunque grazie pure a Manuele che quanto si arrabbia guarda gli esce tutto quello che sta nello subcosciente di noi così esce fuori è chiaro e ne discutiamo grazie grazie a tutti grazie Filomena Vinto prego allora buonasera a tutti io sono fresco di studi per cui sto ascoltando veramente con grande interesse questa bellissima serata e dico solo questo che quando c'è tanto fuoco si sta bene intorno al fuoco c'è tanta energia ora magari bisogna canalizzare qualcosa però immaginate se questa serata era fredda non c'era questa passione non c'era questa verba vuol dire che non c'era un argomente interessante sicuramente c'è qualcosa da mettere meglio sotto la lente di ingrandimento da capire e poi voglio dire anche questo che non tutto si può sempre percepire solo attraverso la ragione ma anche attraverso il sentire io ho avuto il piacere di incontrare Barbara lì in quell'incontro di Terre Campane e ho parlato anche con Marco Di Mauro e il mio sentire mi dice che è in buona fede punto siccome sono uno degli ultimi arrivati non mi dilungo resto in ascolto e vi ringrazio grazie Nico allora diciamo che si può allora non so se Barbara se volete andare avanti col documento sì è curioso una cosa però che mi fa un po' sorridere è curioso come a volte siamo mettiamo il focus su un aspetto bypassando tutto il resto ed è curioso come anche le cose che ho detto alcune cose sono state semplicemente bypassate neanche considerate ma non per tutti rispetto magari perché la tensione è come quando uno c'è mal di denti quando c'è mal di denti la tensione deve andare sul dente poi fuori ci può essere il sole una bellissima giornata tutte le cose più belle di questo mondo ma la tensione è sul dente e a volte tendiamo anche a fare questo è normale ci sta però l'importante è vederlo e allora come vogliamo procedere per quanto riguarda questo documento allora intanto vorrei se mi permetti Marco fare una piccola premessa proprio su Marco Di Mauro allora io comprendo che sembra che io mi affidi a Marco Di Mauro ma non è così a differenza di tutti comprendo che io ho visto tantissimi documenti che mi ha girato con la preghiera di tenervi per me e quindi comprendo che la maggior parte della gente del popolo non avendo visto tutto quello che io ho visto girato da Marco Di Mauro chiaramente possa avere i suoi dubbi poi Marco è comunque molto controverso ok in alcuni momenti è dato delle date che poi non si sono rivelate reali o comunque noi non abbiamo visto quello che c'era stato detto e quindi anche lì comprendo che la gente giustamente giustamente dice delle cose e vi posso assicurare che anch'io sono stata direttamente in alcuni momenti attaccata da Marco Di Mauro quindi sono rimasta anche io così interdetta poi lo sapete che cosa mi sono detta che è quello che un po' dico a tutti sempre le leggi universali non fanno sconti a nessuno né a me né a Marco Di Mauro né a chi come giustamente dice Marco davanti fa una faccia dietro ne fa un'altra questo semplicemente perché perché noi chiediamo rimedi alle leggi chiediamo il rimedio vogliamo il rimedio ma poi non ci accorgiamo che tanti rimedi ne dobbiamo noi alle leggi e quindi di conseguenza ci pretende un po' parecchio tante volte dagli altri chiarezza voglio la trasparenza voglio quello e poi di solito siamo i primi a non darla questo come premessa di questa serata mi sembra opportuno proprio per il discorso che hai fatto Marco e per il fatto che io stamattina presente Coopera qui io stamattina ho detto dentro Coopera che questo documento che è la ratifica della mia azione che è stata fatta insieme anche alla Franci che è qui e mi auguro che avrissi la mano per favore perché poi sarai tu fra che terrai la condivisione dello schermo questo documento io l'ho già inviato proprio perché siccome è uno strumento quello che ci ha fornito Marco Di Mauro è uno strumento che non volevo assolutamente mettere al centro senza averlo prima testato questo si chiama autodeterminazione prima lo provo io vedo che cosa funziona e che cosa non funziona e se lo strumento funziona allora come sempre lo metto al centro perché non ho fatto vedere subito il documento di Marco Di Mauro non perché non volevo che voi vedesse il documento se no non ve lo facevo vedere stasera perché so che alcuni fremono per inviare cose per risolvere le proprie situazioni e questo secondo me va contro il popolo quando invece di testare e sperimentare qualcosa in primis si piglia e si manda così a nome del noi chiaro allora lo ripropongo e lo propongo qui l'ho proposto qui per due motivi primo perché è uno strumento estremamente a me basterebbe vi ho detto adesso sono io che chiedo protezione al popolo ma nel momento in cui l'ho letto e l'ho reso pubblico qui davanti a tutti voi io sono già stata sono già protetta chiaro perché l'ho messo pubblico perché è pubblicato ma soprattutto mi interessa donarlo ci interessa donarlo perché perché c'è il lavoro di Luigi Zaccaro c'è il lavoro di Eleonora Peruzzi c'è il lavoro della Franci c'è il lavoro di De Marzia Biancardi che ora vedrete aggiunto stasera c'è il lavoro di tutta coopera c'è il lavoro di tutto il popolo in questo strumento non è mio la tua azione sì è vero è condensato nella mia azione ma questo strumento è nostro l'allegato che vedrete stasera è un allegato di molti anni fa ma Emanuele te l'ho già detto quando me l'hai chiesto in privato e mi hai detto io devo prima vederlo io ti ho detto ok te lo faccio vedere me lo chiedi te lo faccio vedere ti dico che sei stato l'unico che me l'ha chiesto l'unico perché se qualcuno del popolo me l'avesse chiesto in privato gliel'avrei fatto vedere coopera è presente non l'ha visto manco coopera qualcuno invece l'ha visto perché io ripeto che questo strumento l'ho dato immediatamente alla sovranità dell'ordine e alla nazione perché l'ho mandato in copia già subito così come l'ho fatto vedere ad alcuni che mi hanno aiutato anche alla terra siciliana che nella 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 donna Valeria Cimò che a cui ho chiesto di mantenerlo per sé ma io ho chiesto di mantenerlo di tenerlo non me lo sono tenuto segreto perché nel momento in cui presente il popolo Marco Di Mauro me lo ha mi ha detto c'ho due documenti da dar due il primo è questo lo puoi mettere nella tua azione mi ha detto il secondo che si chiama codice veto di cui ha parlato durante l'incontro me lo ha mandato una pagina di due una sola pagina dicendomi che questi documenti che sono i suoi documenti che sono quelli che lui ha in mano e che il sistema vorrebbe proprio che non ce l'avesse ma ce l'ha e che chiaramente non mi può dare l'originale non può per tutta una serie di motivi comprenderete li porta lui quando sarà il momento di andare al MER ad aprire la tesoreria della nazione ora io di quello non voglio neanche parlare voglio parlare di quello che vi farò vedere stasera quello che vi farò vedere stasera io l'ho già inviato è nella mia azione ripeto presente coopera io stamattina visto e dato che arrivano le le solite chiacchiere e che secondo qualcuno io sarei sotto incantesimo di Marco Di Mauro scusate non mi conoscete ve lo posso assicurare a me gli incantesimi non me li fa nessuno ma per chi lo pensa la mia azione è andata a buon fine perché perché il giudice è stato esattamente ricusato come si è scritto in quel documento ora c'è chi mi dirà ma sei sicuro è finita la storia no non è finita la storia non è finita la storia perché io non ho chiesto la ricusazione del giudice io ho disposto che sia la sia la corte costituzionale a chiudere la mia pratica così come la ricusazione del giudice vi ricordo che non la fa il presidente del tribunale la fa il consiglio superiore della magistratura quindi è intervenuto il consiglio superiore della magistratura e la mattina dopo presenti quattro del popolo come vi ho raccontato già il procuratore era insieme a tutta la magistratura lì in quel momento e alla detta della segretaria si stavano tirando le sedie ora in questo strumento non c'è soltanto il documento di Marco di Mauro ripeto c'è tutta una serie di informazioni che sono intervenute grazie al popolo e stamattina io in Coopera ho detto chiaramente chiaro e tondo non c'è bisogno di ratificarlo il mio se non volete io ho già partecipato alla stitura del corpo PEC della ratifica della nazione dove dentro c'è molto di più che il mio documento molto di più quindi se stasera il popolo decide che il mio documento non va ratificato e basta quello che c'è scritto nel corpo PEC per me va già bene così chi vorrà lo strumento di Marco di Mauro per allegarlo alla sua ratifica basterà che me lo chieda e io io lo darò chiaro è chiaro quindi un'altra informazione a questo strumento sempre che il popolo è d'accordo verrà legato anche un'azione verrà legata che è quella di Marzia Marzia sono due anni che cerca il bond bene sappiate che l'ha trovata non ce l'abbiamo uno ce l'abbiamo cinque sei sette vi ricordate quando vi ho detto tutte le firme che abbiamo messo bene lei l'ha trovata questo ci ha voluto per lei molto tempo due anni ma adesso lo sappiamo come si fa ma soprattutto tanti soldi tanti perché perché costa chiamare un broker internazionale farsi guardare dentro certi terminal solo per gli addetti ai lavori della borsa di New York che cos'è il QSIP che cos'è il Leasing voi l'avete listo lì in quel documento l'avete letto insieme a noi ma stasera vedrete che in questo strumento che è il corpo PEC della ratifica sempre che il popolo vuole della mia azione ripeto sempre che il popolo vuole vedrete che ci sono molte più informazioni di quelle che ho inviato io ma siccome la mia di azione ha già ottenuto se il popolo è d'accordo la mandiamo se non è d'accordo io la metterò a disposizione di chi la vorrà ratificare come fate tutti voi come abbiamo sempre fatto così come nessuno ha mai obbligato nessuno a mettere una firma dove non voleva quindi io non vi ho detto che mi dovete sostenere per forza non l'ho mai detto ma da autodeterminata una della nazione prima di far vedere questo strumento stasera come ho detto ve l'avrei fatto vedere eccomi qui a farvelo vedere questo strumento non doveva essere utilizzato prima perché perché sono segreti c'è scritto sopra ora lo vedrete c'è scritto sopra trattare con segretezza e questo la dice molto lunga su tutta una serie di altri strumenti che sono pronti per essere divulgati questo documento non è di ieri è di prima di OPPT 1989 prima di OPPT già il popolo prima di OPPT era aveva l'immunità globale ma per che cosa per tutto per il denaro per le tasse capite che il sistema quando vede sta roba in giro non è contento perché è scoperto nelle sue serpeggiamenti nei suoi serpeggiamenti nelle sue manipolazioni adesso ve lo faccio vedere scoprirete che non si vede bene perché è una foto scoprirete che c'è stata anche una donna del popolo a cui l'ho girato chiedendogli di chiarirlo più possibile per farlo leggere che però si legge mi posso assicurare che con po' di fatica si legge ma si legge ma quello che varriva da sto documento dovete vedere prima di tutto quando lo vedete dovete capire se è una cosa che vi piace o non vi piace perché ci può essere scritto qualsiasi cosa sopra io l'ho usato sì perché ho letto che cosa c'era scritto ma soprattutto perché quello che mi è arrivato a livello energetico era un bel sì altrimenti me lo poteva passare pure Pinco Pallino o come dice Luigi Ciccio Ciccio mai non l'avrei mandato quindi liberi di decidere alla fine di questa zoom sarà chiaro questo se mandare la mia ratifica o no guai che io impongo a qualcuno Francesca te lo passo in privato mi puoi passare il telefono per favore nel frattempo vi dico che in questi giorni una donna di terra ligure spero che verrà prima o poi a raccontarcelo la sua azione ha riaperto il suo conto che era stato in qualche modo chiuso e pignorato non solo è andata a guardare stamattina mi ha telefonato mi ha detto ti devo raccontare una cosa ah lei sa di questo strumento mi ha detto ti devo raccontare una cosa lo sai che la mia causa è sparita è sparita con tanto di prove giudici avvocati è sparita come è sparita la denuncia a Viderbo ma quella è sparita con certe cose interessanti che io ho messo anche in questo strumento e che abbiamo aggiunto ancora che magari sono state quelle forse va hai riposto la tua sentenza così come vi dico che una coppia di terra marchigiana che ha mandato un fatturone per i vaccini del proprio figlio quelli che fanno ah quelli che fanno da tre mesi quelli lì ecco al dirigente e al dottore si sono visti tutti e due gli facenti funzioni rispondenti in prevenzionamento quindi la nostra strumentazione che ha una base giuridica seria che si chiama PPT che vi ricordo che ancora tuttora danno per dateci le prove ancora tuttora dicono che è una nostra idea è ancora tuttora chi la conosce questa azione dice che è ETER o che l'azione è dei Rothschild quindi perdonatemi stiamo mandando strumentazione che datemi le prove le prove lo sapete chi sono siamo noi la prova la prova siamo noi non l'andate a cercare in giro la prova siamo noi e le nostre azioni la prova è Luigi la prova è è Claudia la prova è è Patrizia la prova è Stefano la prova è la nazione che la possiamo chiamare nuova terra la nazione basta che si capiamo che è una sola nazione è un solo popolo che si esprime ognuno nella sua terra come gli pare te la mando ah non ce l'aveva manco Francesca anche se Francesca ce l'ha perché ce l'ha dalla mia azione giusto Francesca te l'ho inviato grazie non l'avevo salvata non l'avevi salvata che serate stasera non mi viene il sono ancora ancora non mi viene il sono le serate le serate saranno sempre più così ma nel senso che saranno sempre più di grande potere anzi cominciamo a chiamare le cose con il loro termine potenza e quest'azione che che ne vogliate io l'ho consegnata anche al prefetto di potenza in presenza tornando dalla Puglia con in presenza con me due giurati del popolo la Franca qui vicino a me e Fausta Moroni Francesca potresti mettere intanto questa questo documento e poi leggeremo il corpo PEC perché ci sono tante belle cose aggiunte ce l'hai la condivisione? lo puoi aprire un pochino? puoi allargare il più possibile? eccolo qui troppo ok allora si legge si legge si legge molto male ma si legge qui c'è scritto trattare con segretezza certificato ci chiama Gens Code e Global Immunity vedete qua ci sono i codici così come ci sono i codici sotto qui c'è una scritta questa non si legge bene ma vedete ma guardate un po' ci sono sempre le impronte rosse che che ne vogliamo dire è una è un'immunità globale dalle tasse dai pagamenti dal sistema giuridico schiavista già dal 89 si legge male ma eccolo qua puoi allargare per favore sulla data che poi pure lì mica siamo sicuri che 89 potrebbe essere 69 si legge non tantissimo bene eccolo qua 89 1989 qui dice United States of America settembre 29 1989 1989 1989 questi freggi che vedete rosso e blu questi timbri grandi che vedete questi simboli che vedete questo è come opera il sistema questo strumento ve lo posso assicurare è vero ora che l'avete visto mi direte perché non ce l'ha fatto vedere prima eppure né niente puoi puoi allargarlo un po' perché si vede solo un pezzo c'è pochissimo scritto sopra pochissimo però vi posso dire che io lo userò ancora lo userò per mandare appena finita questa zoom oppure appena domani mattina per mandare tutta la documentazione che serve per il mio passaggio solo con l'universal pass da Fiumicino a Catania e da Catania a Fiumicino perché perché la sensazione è che questo possa andare oltre lo Schengen per capirci possa servire anche per i nostri spostamenti non perché noi ne avessimo bisogno ma perché se ci arriva la mia domanda è universo universo fammi vincere la schedina universo universo fammi vincere la schedina e poi l'universo a un certo punto ti guarda e dice ma gioca la sta schedina però eh è la verità a corto di sedie mi sa non ho capito credo che rimarranno a corto di sedie le spaccheranno tutte sulle loro teste l'hanno già spaccate quel giorno quella mattina se si impitavano le sedie ma non solo per questo attenzione perché in quel tuo strumento ce n'è di roba ma l'origine Barbara chi l'ha firmato questo documento è stato firmato dagli Stati Uniti d'America e queste firme che vedete qui sono quelle che noi non conosciamo perché noi pensiamo che siano i capi di Stato l'ONU che firma i documenti non è così non è così questa strumentazione allora vi dico una cosa il patto atlantico che abbiamo messo anche qui grazie Anastasia il patto atlantico dice all'articolo 3 che noi rispettiamo l'autodeterminazione dei popoli lo sapete chi l'ha detto? sto noi chi è Churchill e Roosevelt oh c'erano due eppure il patto atlantico sul patto atlantico c'è nata la Nato eh per chi non lo sa allora la domanda sorge spontanea i due hanno decretato per tutti sì perché questo è il sistema così come per tutti è stato decretato la schiavitù così per tutti è stato decretato che questa strumentazione non venisse fatta vedere a nessuno ma fosse trattata segretamente così come nel 45 noi avevamo già l'immunità ce n'era un'altra di immunità nel 45 ci avevamo tutti 10 miliardi dopo la seconda guerra mondiale come mai non l'abbiamo mai visti questi strumenti perché Ether dice 10 miliardi e poi ci mette un true bill che è rivalutabile perché erano 10 miliardi nei 45 di dollari Ether dice di valore valore dice come non sapevamo che il re non ha mai abdicato come non sapevamo che l'unità d'Italia non era stata da certo fatta come ce l'avevano raccontata come non sapevamo chi era Garibaldi e come non sappiamo se Cristoforo Colombo è vissuto davvero oppure no però sappiamo che la Dodd è stata chiusa come ci è stato detto da Marco Di Mauro perché come ci sono stati passati gli indirizzi di tutte le tribù nonché delle nuove Nazioni Unite di Montria da Marco Di Mauro per contattarli e per metterci in contatto con le altre gli altri popoli tribali come ci è stato detto che noi in realtà siamo la tribù ancestrale nativa la parola più importante che abbiamo messo nei nostri documenti è nativo tutte queste cose le abbiamo scoperte insieme e le abbiamo usate insieme questo è lo strumento per quanto io ho potuto leggere potrebbe essere inutile potrebbe essere inutile oppure potrebbe essere un'immunità globale e il codice genza non lo vogliamo mandare non lo mandiamo non c'è nessun problema caro Emanuele è l'unanimità e tu l'hai letto stamattina su Coopera quello che ho scritto l'ho scritto su Coopera stamattina che non c'è bisogno di mandare la mia azione posso anche non mandarla quello che dovevamo scrivere l'abbiamo scritto su Coopera questo documento può essere tolto no senza nessun problema no ora ripeto può essere ratificato da ognuno se lo volete ve lo do in privato e lo aggiungete o vi do la mia azione e c'è già lì dentro nessuno ha mai imposto niente a nessuno qui chi è voluto andare se n'è andato chi è voluto rimanere rimasto lo possiamo togliere chi l'ha emesso questo documento lo puoi allargare per favore chi l'ha emesso Barbara questo documento l'hanno emesso le Nazioni Unite ok le Nazioni Unite quelle che so Pappe Cicciacolo l'OMS e il WF quelle che hanno buttato giù le torri gemelle ma perché l'hanno dovuto emettere questo strumento ve lo ricordate quando parliamo di ce lo devono dire devono fare delle cose per forza di cose devono fare delle cose per mantenere degli equilibri Rodolfo vedo che scrivi che l'autodeterminazione è finita perché ci sono delle simbologie su questo documento io continuo a ribadire che le simbologie il sistema lo sa benissimo come usarle ma le simbologie sono a disposizione di tutti se tu emetti una simbologia faccio un esempio il battesimo quando siamo stati battezzati c'è stato chiuso il terzo occhio questo ci hanno fatto no? col crisma ce l'hanno chiuso e no con la croce col crisma ce l'hanno chiuso ci hanno chiuso la bocca e ci hanno chiuso il cuore sapete quanti mi dicono come si fa a sbattezzarsi vai a una fonte d'acqua e fai lo stesso quello che ti hanno fatto all'incontrario e hai fatto se te lo fai fare da un fratello è anche meglio visto che te l'hanno fatto ma se lo vuoi fare da solo lo puoi fare anche da solo c'è bisogno di scrivere al Vaticano perché il Vaticano non ti sbattezza il Vaticano ti scomunica chiaro? quindi adesso mi date il consenso di toglierlo? posso dire una cosa? certo secondo il mio punto di vista come lo vedo questo è un certificato tipo ambasciatore che ha tutta l'immunità su tutte queste cose anche perché gli ambasciatori e io ne ho conosciuto uno quando ero in India allora loro pagano comunque le tasse non possono devono rinnovare il rischio come tutti ogni sei mesi e comunque hanno delle prerogative che non sono tipo questa questa è una praticamente ampia globale su tutte le cose per poter fare adesso non so in che paese tutto il mondo vabbè non c'è scritto appunto per questo è per tutto il mondo ha questa possibilità non c'era il secondo foglio no questo è il secondo foglio di foglio ma è qua in questo caso è questo che ha questa diciamo possibilità che poi bisogna vedere da dove viene perché appunto questi simboli si possono andare dall'America ma anche dal Vaticano secondo me e comunque con questo lui praticamente può fare tutto quello che vuole però non è detto che sia la comprensione di questo ma è stata una cosa che gli hanno concesso no capito una cosa segreta che gli hanno concesso l'immunità globale su qualsiasi cosa però per una persona singola qua eh questo non era per lui era per il popolo eh però capite che questa cosa come no e dove è scritto che per il popolo il codice è gente le gente è assolutamente un'immunità globale non c'è scritto un nome qui vedete che non c'è un nome non c'è scritto per Pinco Pallino non c'è scritto né un nome però sotto c'è for t cosa vuol dire cos'è sotto queste sono le firme no no sotto gens code and global unity for t r t a non si capisce perché poi è stato cominciato questa è la sigla che dice per tutti quella sopra questo forti vtb gest talion 777 questa è per tutti sapete come si chiamano i nostri fondi quelli che ci riguardano si chiamano mornistar 777 allora potrebbe essere veritiero potrebbe essere veritiero sicuramente noi non possiamo comunque di fatto appurarlo però un certificato del genere non lascia passare ovunque in qualsiasi cosa in qualsiasi parte del mondo dove però secondo me si per il popolo ma è stata una come dire ti do questa autorità a te per poter fare una cosa per tutto il popolo a questo punto uno viene da pensare capito come è scritto qua allora ripeto questo strumento allora ci sono sempre dei tempi per fare le cose questo strumento mi è stato dato dicendo utilizzalo e quindi questa è la prova utilizzalo per la tua azione poteva non essere utilizzato perché non me l'ha imposto non mi ha detto lo devi usare per la tua azione mi ha detto questo usalo per la tua azione poi poi quindi non devi farlo eh darlo a tutti così scappa fuori il panico usalo e poi se vorrai lo potrai dare a tutti allora siccome la mia azione ha ottenuto è appena cominciata ve lo ripeto io non mi sto fermando io non ho detto va bene così l'hai levata l'agliello l'hai mandata a Napoli e per me va bene così non è così che andrà io ho decretato ho disposto la chiusura della corte costituzionale quindi la mia azione non è finita ma quello che doveva fare questo strumento che non è soltanto questo ma tutto il resto pure è la mia energia pure eh è stato rifusato il giudice quel giorno in aula non c'era ma non è che non c'era perché stava male cioè l'influenza il raffreddore non c'era perché il giorno prima è stato trasferito e ripeto per trasferire un giudice da un tribunale a un altro ci vuole la corte suprema della magistratura non lo può fare il presidente del tribunale lo fa la corte suprema che è stata non solo citata ma era in aula no no secondo il mio punto di vista è attinente poi sai questa è sempre comunque la fotocopia anche perché sotto hai delle però questi documenti secondo me eh come li fanno loro possono anche girare tra di loro e quindi non è difficile che possa essere veritiero anche perché è abbastanza consistente la cosa no cavolo se lo è guardate c'è di tutto qui sopra ci sono dei simboli qui sopra se vedete qui 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 c'è un simbolo molto particolare lo vedete questo lo vedete questo di simbolo lo vedete non lo so se lo vedete dopo le firme se tu guardi dopo le firme dopo le firme a destra brava quello sto vedendo la vedete la vedete la vedete la finita quest'altro simbolo sulla sinistra sembra scritto a penna quello sulla sinistra è scritto a penna non è stampato così come questo non è un sigillo così lo vedete le scritte intorno quanto sono antiche sì c'è una figura c'è un uomo e lo vedete le scritte intorno sembra una scrittura antichissimo ma sai così quello che magari può anche essere perché è usurato però a prescindere secondo me funziona cioè è funzionante ora sì ma no scusate scusate ma non dimentichiamoci una cosa però che questo documento non è che è stato inserito o a fronte di questo documento noi abbiamo l'immunità perché non è che ce la stanno dando loro noi inseriamo queste questo documento come altre cose che abbiamo citato all'interno di quell'azione per far sapere che sappiamo esatto non perché non perché questo documento allora guarda ho certificato l'immunità non ce l'hanno data loro questo cioè capito serve soltanto per far capire che noi sappiamo quanto loro sono all'interno di una cospirazione di un inganno di tutto quello che stanno perpetrando non è l'immunità che loro ci danno perché se no sembra quasi che prima anche quell'altra anima che ha scritto appunto l'autodimensione è morta lì quelle cose là guarda i simboli che ci stanno i simboli sono i simboli del sistema sono i simboli di tutte quelle cose là che conosciamo ma noi stiamo soltanto dimostrando che ormai sappiamo e che le cose che prima venivano tenute nascoste adesso vengono chiritate sui tetti e questo è il periodo dunque cioè noi adesso possiamo qui sì guardare tutto quello che ci pare anche la faccia di quella che c'è sul timbro a destra con le cose vedere le impronte ma il senso è soltanto io so il popolo sa e se sa tutto il resto e questo è l'aspetto importante questo non è a garanzia del fatto che grazie a questo allora andiamo lì adesso noi abbiamo unità noi abbiamo unità da quanto è che ce l'abbiamo da sempre se no ci perdiamo dietro qualcos'altro cioè io vorrei andare anche avanti con le mani visto che c'è già qualcuno che sta con le mani alzate faccio una replica no scusate ci sarei forse prima io scusate ma ho la battenza ho la battenza scusate ci sono delle mani alzate faccio una breve verità brevissima e basta alzare la mano Manuele l'ho alzata la mano e allora attendiamo un attimo il tuo turno perché ci sono altri che vogliono parlare vabbè l'ho tirata giù prima ma comunque potevo lasciarla alzata io santo dico solo una cosa un attimo ci vuole niente volevo dire solo che questo documento io ho chiesto che venisse provato no cioè l'origine il significato preciso tutto quanto perché ce l'ha uno eccetera perché ci sono delle parole che non si leggono sbiagite eccetera un documento ufficiale non dovrebbe esistere una cosa così capito ci sono varie cose che mettono sempre in dubbio la realtà la verità di questa cosa ecco e comunque l'efficacia in qualche modo anche per fargli sapere quello che stavate dicendo adesso che sarebbe anche giusto nel senso così giusto per far sapere che sappiamo però appunto dovrebbe essere più provato come dire per me questo documento così com'è non è sufficiente ok grazie adesso non ne vedrò più scusate Ale fra potresti togliere questo documento per favore e possiamo io sennò non vedo la sequenza delle mani alzate non riesco a fare la condivisione fra così almeno vediamo la sequenza delle mani e poi passiamo a leggere la sequenza vedo la French Lale e Mauro poi c'è Barbara ok questa è la sequenza prego French no Marco la mia mano è alzata perché ho il documento da condividere grazie Ale prego allora allora scusate io ho la batteria scarica per cui sarò molto telegrafica è molto molto veloce buonasera a tutti intanto ho già espresso brevemente quel che penso riguardo al documento che è stato letto martedì scorso per cui per quanto riguarda la mia anima il mio sentire è una cosa che ho sentito in completa assonanza e non sto qua a dire il perché e il per come perché non ce la farei con la batteria quindi è un lavoro eccezionale che io ritengo di ratificare in toto se è possibile avere il documento di stasera che altrettanto ritengo avere una sua assonanza con il mio sentire importante per ciò che veicola il documento per ciò che sento proprio anche io sarei molto grata non so se è già fruibile il documento di martedì scorso in chat allora la ratifica di stasera io ho detto già martedì scorso che una volta ratificata l'azione questo documento è nell'azione quindi ce l'avrete tutto in mano perché la ratifica sarà con questo documento se poi il popolo non è un animo come dice Emanuele e non volete inviarlo questo documento io lo levo insieme a mia azione perché la mia azione lo contiene quindi ratificare la mia azione vuol dire ratificare anche questo documento quindi io lo levo e una volta inviato dalla nazione il corpo che è esattamente come il mio documento perché non è che devo nascondere niente anzi qui c'è molto più roba ve lo vedrete molto di più perché sono arrivate altre cose nel frattempo in quanti giorni una settimana eh ma è tutto velocissimo ora esatto e soprattutto non si scappa adesso non si scappa no 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 centrati 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 essere 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 punto c'è più niente da discutere 101 101 basta dicevo Alessandra che se non lo invieremo dalla nazione non c'è nessun problema chi lo vorrà farà quello che si sentirà gli passerò la mia azione e lo troverà la tele no io mi auguro che venga ratificato dal popolo io sono pro questo e lo utilizzerò anche perché lo sento proprio mio lo sento nelle parole perché le parole verranno ovviamente riempite fra virgolette passatemi il termine molto semplicistico delle mie frequenze delle mie energie perché lo sento proprio come se l'avessi scritto io come se al posto vostro e con voi ci fossi stata io anche nella stesura e ritengo altrettanto importante quello che è stato letto questa sera anche se me lo guarderò ovviamente con calma ritengo poi che ogni anima in assoluta voglio dire responsabilità può fare quello che vuole vuole toglierlo vuole metterlo non metterlo se lo sente o meno io per me la ratifica va benissimo con entrambe il documento di martedì scorso è l'allegato di questa sera e se è possibile averlo ovviamente una volta ratificato se verrà ratificato da tutti tanto meglio e se invece questa cosa non avverrà ti chiamerò e ti chiederò insomma la metterò comunque a disposizione di tutti la mia azione come abbiamo fatto tutti la mia azione sarà a disposizione del popolo se non verrà ratificato dalla nazione come l'azione di tua di Francesca di Marco per l'acqua di Mauro per le armi verrà a dimessa a disposizione del popolo per essere ratificata perché così abbiamo fatto sempre così abbiamo fatto sempre certo è a dir poco meraviglioso io voglio spendere altre due parole spero non mi caschi la linea a dire dopo tanti anni di studio rifaccio i miei complimenti perché veramente è metterli all'angolo questa volta non c'è più eccepire che tenga con quello che io ho ascoltato attentamente studiato perché me lo sono riascoltata già con il documento di martedì scorso non hanno più da eccepire niente niente adesso basta adesso veramente l'equilibrio si deve veramente instaurare perché è arrivato il momento del basta questa grazie per avermi dato spazio vi abbraccio e ovviamente poi vedremo il da farsi però io sono pro le due cose ancora grazie veramente grazie ancora e benedizioni a tutti grazie Ale prego Mauro aspetta un attimo grazie Sandra anche perdonate nella chat Sandra dice 14 marzo 2014 innatus vires obligatus et istituto Aving 1969 noto come potere ereditario di responsabilità perché sapete che l'immunità assoluta è responsabilità illimitata no sigillo blu S66 ho trovato queste reti in base alle diciture latine grazie Sandra potete per cortesia le mani alzate tenere dei tempi stretti perché il documento si è allungato e sono le 22 e 22 Mauro ciao ciao a tutti io volevo solo dirti una cosa io sono perfettamente d'accordo con la ratifica mi ci sono trovato dentro fin dall'inizio mi è piaciuta tantissimo la trovo potentissima quindi sì andiamo avanti e andiamo avanti con quello che è uscito anche stasera se il popolo decide di no non c'è nessun problema ti chiedo di girarmi quella documentazione perché la porterò avanti io per per me ti ringrazio grazie Mauro prego Barbara buonasera allora il documento di Barbara è fantastico è gioioso l'allegato adesso distingo queste due parole perché almeno così si sa di che cosa sto parlando l'allegato invece che è stato presentato questa sera io da ignorante scusa Marco se mi mi permetto però mi piacerebbe perché tu hai parlato dei particolari così di avere delle delucidazioni in più perché proprio per me è arabo completo i simboli visto che è una cosa che comunque io ho dato il mio consenso perché ho mandato i miei dati non sto dicendo che non è giusto inserire l'allegato però conoscere un po' di più quello che l'allegato dice attraverso anche i simboli ecco tutto qui chiedevo se era possibile questo ci vuole una settimana una settimana ripeto se non senti che questo strumento possa essere inviato da te basta che lo dici le cose sono due o come ha fatto Emanuele ritirate la la IEM e quindi chi lo vorrà mandare lo manderà come con totalità chi invece oppure la seconda è deciderò dopo ma invece aspettare a mandare il documento e dare il tempo per avere queste spiegazioni io credo che ci sia tanta gente qua dentro che ne ha necessità proprio questo strumento c'è gente che è vestata c'è gente che viene presa a calci c'è gente che viene fermata dai carabinieri gli viene presa a calci il cane e invece allora prenderci una parentesi e ratificarlo no no e poi comunque trovare una serata per dare spiegazione di questo allegato questo si può fare ok questo già mi perché inviarlo e essere così senza niente vado con fiducia però almeno essere in coerenza avere un seguito un modo di ascoltare quello che il documento dice che io non comprendo ecco se è possibile sarebbe bello sì questo lo possiamo fare possiamo approfondire ce ne abbiamo tantissime di cose da approfondire ma proprio tantissime tantissime grazie grazie a te Barbara ero genio buonasera buonasera forse sono stato il primo a mandare il mio IEM già la settimana scorsa perché le sei di mattina già stavo online e inviavo niente il tuo documento Barbara va benissimo per me è qualcosa di unico però quest'altro questo allegato giusto come diceva non l'abbiamo fatto noi scusami la mia perché sai a me piacerebbe vederlo bene direttamente per poi magari usarlo in secondo tempo perché non è che sai spulciare un pochettino vedere i sei simboli perché è fatto bene però mi incuriosisce però metterci già direttamente come si dice la mano sul fuoco no perché alla fine giusto come diceva l'amico prima facciamo tanto per tirarci fuori poi non vorrei che ricaschiamo in qualcosa che non ci appartiene ma non lo so comunque se si può avere una copia magari spulciare un pochettino su internet e trovare qualche riferimento a cui magari i dubbi magari passano oppure si approfondiscono i dubbi perché sai ci sono tanti è fatto troppo troppo è un'opera d'arte quel documento si sono divertiti a farlo quel documento da qualche parte ci sarà una traccia che ti lascia lascia capire bene di che cosa sei tratto comunque per me va bene così dai se riuscivi ad avere una copia è importante grazie 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 Eugenia ma comunque nessuno nessuno ci vieta di fare le proprie ricerche nel senso non ci aspettiamo che le risposte arrivino sempre no come dire ah eh allora dovete dirmi che non perdiamo di vista quello che è stato sempre fin dall'inizio cioè ognuno nel proprio e poi mettere insieme tutte le informazioni come abbiamo sempre fatto è giusto fare le ricerche è importante studiare capire è importante è fondamentale proprio in questo caso con questo documento grazie grazie a te Eugenio Lorenzo prego Buonasera scusate se la voce è bassa comunque il sentire interiore è quello che comanda giusto se qualcuno fa del male ad altri l'universo lo ricompensa io sono d'accordo per tutto quanto il documento e ritengo per mia sentire che questo deve essere mandato dalla nazione se qualcuno si ritira va bene facendo lo farà l'anticipità dopo io sono completamente d'accordo sensiente cosciente e consapevole e qualora qualcosa dovesse andare diversamente di come noi pensiamo ognuno paga le proprie conseguenze e sono d'accordissimo che il popolo che sta in questo lo deve mandare perché è una cosa molto importante se puoi cercare qualcosa di sbagliato si può anche fare una piccola ratifica non mi sbaglio vi auguro una buona serata sono con voi sono con Pesano ho preso una bronchite quindi vi ringrazio è una buona serata a tutti sono d'accordissimo non d'accordo d'accordissimo anche di più una buona serata grazie Lorenzo prego Francesco sì buonasera a tutti ciao Barbara buonasera Francesco ciao allora io sarò sintetico vado per punti e per domenica a tutti il mio sentire che è questo allora innanzitutto se una persona come Barbara ha dedicato praticamente la vita a queste cose io mi sento un ricetto parlo per me di dare di piena fiducia per il superato per quello che fa eccetera si sente malissimo Francesco si sente malissimo mi senti adesso? sì mi senti? ecco adesso sì ok e dicevo niente che conoscendo l'operato di Barbara i sacrifici che ha fatto e continua a fare lo studio la dedizione eccetera a prescindere io personalmente mi sento di darle piena fiducia detto questo a mio sentire non è che uno ripeto parlo per me deve opinare il documento non si legge si legge eccetera eccetera i simboli allora lo sappiamo che il sistema va avanti a forza di simboli e tutti i giorni ce li sbattono in faccia e lasciarla sola con un documento del genere non è carino adesso scendiamo un po' più a terra un conto che un documento lo manda una persona un conto che lo mandano cento persone sparse per l'Italia magari mille sarebbe ancora meglio cioè non è conveniente come dire è pericoloso è rischioso mandare far mandare ad una sola persona quel documento detto questo io se Barbara credo che me lo dia io lo metterò nel portafoglio come lascia passare dappertutto sarei tentato ad attaccarlo sul parapresso della macchina perché è una cosa straordinaria cioè quando io qualsiasi ente mi vessa io glielo sbatto in faccia anche senza presentarlo materialmente cioè già che io ho la consapevolezza di quel documento gli trasmetto un'energia tale che lo disintegro è il conoscere l'origine la funzione di quei documenti che ti dà potenza non so se rendo l'idea e niente volevo dire questo qua di starti vicino e vi ripeto questo è un consiglio personale che do a tutti non lasciamo la sola nel trasmettere questo documento ok grazie grazie a te Francesco Maria Franca che prima mi sono dimenticato di farti parlare che aveva detto pure prego allora buonasera intanto a tutti allora io mi voglio riferire alla frase che ha detto Emanuele per quanto riguarda l'unanimità allora che io sappia ora è il quarto anno che sono in questo cammino allora l'unanimità c'è sempre stata per quanto riguarda le stesure dei documenti che il popolo doveva essere unanime sulla scrittura su come veniva su come veniva impostato il documento per quanto riguarda le azioni non sempre il popolo è stato unanime c'è chi ha aderito e c'è chi non ha aderito e sono state inviate ugualmente allora io dico non condivido quello che ha detto Barbara ma è un suo sentire l'azione secondo me va inviata così come era stato stabilito dall'inizio perché perché come ha detto Francesco Fiocchi un conto è spedirla singolarmente non è la stessa cosa a livello energetico cento firme va bene c'è un detto sacrosanto pochi ma buoni punto grazie no d'accordo Maria Franca scusate posso dire una cosa Emanuele ti cortesemente la mia autodeterminazione io non la dedico a nessuno nessuno chiaro? quindi non non cerchiamo di aver ragione a tutti i costi ripeto non siete obbligati a inviare niente basta togliere l'IM e stamattina in coopera ci avevamo anche tutto il tempo ma mi sembra che coopera è stato molto unanime su quello che vuole far tu l'hai già tolto l'IM l'hai già tolto hai deciso di non inviarla sta roba dov'è il problema ripeto per il popolo io l'ho inviata state sereni perché una volta che l'ho letta pubblicamente e stasera ho fatto vedere il documento io non ho niente da discutere è un dono il mio e dobbiamo ancora leggere la strumentazione grazie a noi quindi leggiamolo e basta e si resta che chi non vuol partecipare ritira la sua firma e il suo autografo finiamo un attimo però queste mani perché sennò c'era Filomena e Anna poi gli altri sono giunti dopo non so se no io sarò velocissima mi sono venuta in mente altre cose volevo chiedere a Barbara posso ora o no stella Francia no ti sei tu ti sei tu Filomena ok quindi se ho capito Barbara la FIDAVIT possiamo utilizzarlo per dopo la ratifica si utilizza ognuno individualmente per le proprie azioni o possiamo veramente utilizzarlo per esempio potremmo fare un'azione per accusare tutti i giudici questo documento è la ricordazione di tutti i giudici tutti ok la ricordazione del giudice e di tutti i facenti funzione della magistratura italiana la ricordazione della magistratura italiana ok quindi questa azione è per tutti ok ottimo ora se ho capito bene questo documento è stato diciamo è stato scritto dai patri fondatori della Costituzione degli Stati Uniti e così l'antica Costituzione e poi è stato scritto eh? no ho scritto più o meno ho detto questo documento che hai presentato stasera è stato scritto diciamo è stato sigillato dai patri fondatori della Costituzione così no tesoro questo documento è del 1969 69 ok scusa non ho ritenuto la data noi usiamo un documento che si chiama OPPT 1776 che è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America per base giuridica di OPPT questo quindi questo è stato fatto prima però Eder ha detto pure una cosa che lei chiudeva tutto prima di quello che stava per far valere la sua azione chiudeva tutto quello che stava fatto prima per far valere la sua no? così allora mi spiego io questo strumento l'ho utilizzato perché io 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 non sto dicendo che buono e cattivo voglio soltanto cercare di capire la connessione logica come ci dobbiamo in effetti ci posizioniamo è un documento che è del sistema perché il sistema stesso lo ha creato e poi non l'ha utilizzato quindi è un segreto nascosto che noi dobbiamo essere a conoscenza anche se per noi però quello che vale è la declaration e order ok? per esempio ecco ok la nostra strumentazione Tommaso la nostra strumentazione non è in discussione la mia autodeterminazione è l'IM la mia autodeterminazione è OPPT 1776 che chiude annulla tutto ma allora nel documento che vi è piaciuto l'avete visto come è scritto certificato di nascita l'avete visto come è scritto il codice fiscale lo sapete adesso che c'è un trust costruttivo quando entriamo in un tribunale ma questa roba non è mica nostra è sempre del sistema allora la domanda sorge spontanea perché la citiamo visto che non è OPPT perché questi ancora la usano diciamo che è un documento storico è un documento storico esatto questo è un documento storico come il trattato di Verona ha una memoria diciamo così esattamente come OPPT 1700 la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America no se capiamo il concetto in effetti non c'è non è il problema non esiste come ci posizioniamo in che spirito lo utilizziamo e che ci sia chiaro quello che facciamo se no non mi sembra che se una verità nascosta e noi la mettiamo in evidenza non mi sembra un pericolo anzi io l'ho mandato con questo intento Filomeno semplicemente ho detto ok ti sto dicendo che conosco che cos'è l'ISIN ti sto dicendo che conosco cos'è il CUSIP e io li sto nominando ma nessuno di voi lo sa ma quel documento lo contiene già il documento scritto no l'allegato questo è un allegato così come nessuno sapeva cosa voleva come si scriveva il codice fiscale come si scrive il certificato di nascita che grazie a Fabio Fornarola che la costituzione è un wipe trademark come non lo sapevamo che il codice civile oltre ad essere noi sapevamo che era un regolamento interno di un'azienda di diritto privato ma mica che ce l'aveva in mano un'altra azienda ancora lì c'è scritto un sacco di roba in questi documenti e il mio intento è siccome io lo so che tu lo sai che io lo so fai quello che devi fare punto perché è la tua legge questo certificato non è mio è tuo chiaro non è il mio certificato non c'è scritto barbara banco sopra non l'ho ricopiato e ci ho fatto un bel barbara banco e non c'è nessuna intenzione di farlo ma è come so adesso del certificato di nascita come si scrive so anche che esiste questo strumento che te l'hai fatto che te avresti dovuto dare al popolo e la domanda sorge spontanea perché non gliela hai dato perché non ce l'hai dato quando era il momento perché non dovevamo smettere di pagare le tasse e essere schiavi io non ero manco nata nel 69 no è importante la chiarezza del concetto quindi allora grazie Anna 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 ecco ecco buona 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 sera a tutti io ho un pochissimo campo presente Anna quindi siamo quasi Lascio le camera spenta e volevo dire che avevo seguito Barbara quando ha letto il documento e mi sentite meglio adesso? Io continuo a parlare poi magari eventualmente Barbara io ne avevo già parlato con te in privato quindi puoi riassumere fondamentalmente io in piena fiducia e dopo aver letto aver ascoltato il documento che hai letto mi era piaciuto molto l'allegato l'ho visto stasera e mi risuona quindi io confermo la ratifica questo volevo dire spero si sia sentito Sì Anna si è sentito benissimo Bene grazie buonasera a tutti C'è di nuovo Francesco? Hai di nuovo alzato la mano o è rimasta alzata Francesco? No volevo fare una precisazione che forse non mi sono spiegato bene Quando io dico di non lasciarti solo dello spedire quell'allegato che ripeto e ribadisco che è potentissimo perché è a supporto Cioè quando tu lo mostri praticamente non c'è più niente da ribadire l'hai fatto tu quindi Io sopra quel documento c'è scritto segreto una cosa del genere giusto? Ok se io lascio una persona sola a trasmettere quell'allegato è rischioso per la persona perché è una Se invece per qualsiasi motivo anche per conoscenza lo trasmettiamo mille persone cambia questa persona nel caso tu è più è non più è protetta Cioè tu non puoi spedire un documento che sopra si è scritto top secret e quant'altro Lo chiamatelo come volete Perché sei a rischio Perché è successo Già è successo Quindi ripeto Lo dobbiamo usare e trasmettere tutti Non una persona sola perché adesso serve a te domani serve a me dopo domani serve a un altro a tizio caio e semprogno Tutto qua E poi ne arriveranno altri di questi documenti in valore che sono certo Guarda stanno già arrivando Francesco perché oggi su Poopera ne ho postati altri Che arrivano a continuazione E di questo io personalmente lo ringrazio Marco Tanto non ho bisogno di confermi Sono tutti di Marco Ah ok va bene Chiunque li manda lo ringrazio Finito? Grazie Patrizia grazie a te Francesco Patrizia Ehi allora Potrò sembrare ingenua ma Non capisco perché metterci tutto questo mentale nell'indagare, il timbro, la firma Cioè ma Barbara fino ad oggi scusatemi Cosa ha fatto? Cosa ha fatto secondo voi? Cioè questa prurito di purezza del documento Ma io trovo che è veramente mortificante se fossi Barbara io Mi sentirei veramente come dire davanti a una platea di farisei Ma com'è possibile? Che mettiamo in dubbio adesso nel momento cruciale Proprio come momento storico E non viene in mente che questi demoni abbiano agito in tutto questo tempo Tenendo sempre questo tipo di documenti nascosti E ci stupiamo che c'è il documento Che non vorremmo sapere di più Cercatelo Cercatelo voi Scusate Ma credo che sia veramente offensivo questo modo di tenere come imputata Bardabarabagampo Ma dico ma Io non lo so Sarà che anch'io ho avuto grandi problemi E ne avrò forse ancora Ma Sapere che lei l'ha già spedito Perché è urgente per lei Quel problema che gli è capitato addosso E che ha a che fare con un Con un bambino Credo no? E quindi immagino La fretta forse Pensate che sia stata fretta la sua Ma non è così stupida Barbara Credo no? Io ho avuto anche la possibilità La strana cosa Quella due anni fa Che ho parlato con questo Marco Perché casualmente Erano qua a casa mia Dei personaggi Amici suoi Sì è un po' È un po' Naif secondo me Non lo so come dire Però Non credo Che sia una Non credo Che sia un Pagliaccio E soprattutto Siccome anch'io Mi sono sempre fidata Estimato Barbara A tutte le cose Che ci ha portato Verso Non posso metterla adesso Sul banco Lei No? Che deve Darci le garanzie Di cosa? Siamo tutti molto adulti E vaccinati Quindi Grazie Barbara E grazie a tutti quelli Che stanno ancora Tenendo duro Buona serata a tutti Grazie Patrizio Tony Però per favore Tony Veloce Veloce Molto veloce No perché Continua Sabri Anche tu Alzare le mani Cioè Non lo leggeremo più Questo Questo corpo Ah ok No volevo dire a Patrizia Questo documento In rete Non si troverà Perché è stato consegnato O breve di mano O via mail Secondo me Non si trova in rete Io faccio ricerca Da dieci anni Non ho mai visto Una cosa del genere Ho finito E non lo troverete proprio In rete Perché non può esistere In rete Questo strumento Perché c'è scritto Trattare con segretezza Avete capito L'assange Della situazione Per aver messo in giro Sta roba Lo sapete dov'è? E' in carcere Dice Ora Io ripeto Adesso leggeremo Il corpo Pec Che non è altro Che il documento Non vi Tranquilli Io l'ho già letto Pubblicato Pubblico Lo metterò a disposizione Del popolo E ognuno di noi Lo ratificherà Se lo vorrà fare Questa potrebbe essere La ratifica per domani Quindi il mio documento E' preso E tirato fuori Quello che serve E' già nel corpo Pec Senza Ah Nel corpo Pec E' in allegato Oltre a questo Quel documento Ci sarebbe anche L'azione Di Marzia Che non solo Ha trovato il bond Ma ha fatto Eccola Ma ha fatto tutta La procedura Per quello che chiamano Accesso al credito Giusto Marzia Ok Marzia Dopo due anni E tutte le spese Che confermerà L'avere avuto Per poter arrivare a questo Ha depositato Tutto Dentro la SEC Contatto di notaio Ha depositato E ha mandato A chi di dovere Ci ha passato tutto Ha anche detto Ai signori O l'accesso al credito O i uv e change Perché tra l'altro Marzia Ha fatto tutta la procedura Compreso L'atto solenne Di conciliazione E a questo punto Ha detto Ok L'ho fatto io Per tutti Eccolo Io Ho fatto questo Mi serve? Azzo se ci serve Ci serve sì Che? Mi sconvolge No Non mi ho detto niente No Infatti Sei anche troppo carina Secondo me Quindi Marzia Ha messo a disposizione La sua azione E se il popolo È d'accordo Oltre ad averla Già citata Nel corpo PEC Se Se E questa è un'altra Se il popolo È d'accordo L'allegheremo Anche questa Perché è la prova Non solo Che esistono Esiste il bond Ma che esistono I bond Vero Marzia? Vabbè Lo stesso principio Dell'allegato di prima Comunque È lo stesso Identico principio Perché Questa qui È più comprensibile Guarda un po' Non è più comprensibile Non pensare Non è più comprensibile No No Vabbè Mi hai capito Sì ho capito Grazie Ho capito bene Francesco Marzia Vuoi dire qualcosa? Ma no Intanto Buonasera a tutti Intanto No No Niente Sono Condivido pienamente Quello che hai detto Mi aggancio Al discorso di prima Del fatto che Se lo fa uno solo È pericoloso Allora Sì È pericoloso Nel senso che Dipende un po' Da quello che uno dice Come lo dice Quindi io l'ho fatto da sola Perché ho voluto Proprio sperimentare Quindi non l'ho reso pubblico Ho inviato Quello che dovevo mandare E io sono in attesa Di risposte Ma Il concetto è proprio Quello che diceva Barbara Prima Cioè il concetto è Guarda che io lo so Guarda che io Lo so Vedi tu Quindi Se lo spedisse la nazione Vero Barbara Guarda che noi lo sappiamo Certo 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 No Esatto Io l'ho fatto da sola Ma perché io Non mi sento di far rischiare Niente a nessuno Quindi io Se faccio una cosa La faccio prima io E rischio io Non dico a nessun altro Di fare niente Quindi ho voluto farla io Non sono neanche l'unica Tra l'altro nel mondo Questa cosa è stata fatta Da parecchi Però viene sempre fatta In un modo molto silenzioso Cioè non viene divulgata Questa cosa qua Il concetto è che Se io non divulgo E non dico niente Secondo me Va bene Cioè non Non mi sento in pericolo Per questa cosa Che ho comunicato Che so Con le prove Perché io Li ho tutti Li ho tutti I titoli obbligazionari Ce li ho tutti Ho anche l'andamento E come Come l'andamento Quindi Non ho fatto Una pubblicità Ecco Se Barbara Come l'ha fatto Barbara Almeno adesso poi Quando legge il documento È fatto in un modo Molto ben fatto Cioè è Quello che io Ho ritenuto di dire A Barbara È stato questo Cioè è sufficiente Far capire Che sappiamo È sufficiente E questo è già Molto potente Far capire Che sappiamo E secondo me Lei Ha fatto esattamente Questo Ha detto Ma non troppo Perdonami Marzia Scusatemi Al volo Ma Anche nel tuo caso È lo stesso principio A mio vedere Perché Se lo mandi solo tu Sei a rischio Non so se rendo l'idea È lo stesso principio Dell'allegato di Barbara Sì avevo capito No allora È la stessa cosa Secondo me Allora Sì hai ragione Fino a un certo punto Nel senso che a rischio È doppiamente Se tu invece vai in giro A dire a tutti quanti Che In realtà ci sono tanti Che lo stanno facendo Che lo stanno chiedendo Perché ci sono delle aziende Che lavorano Solo ed esclusivamente Per questo Ovviamente tu paghi Paghi il servizio E loro ti trovano Tutti i numeri chiusi Che vuoi Collegati ai titoli Che vuoi Quindi non è proprio Un segreto Dipende poi L'uso che ne fai Dipende l'uso Che ne fai Cioè se tu lo usi Per andare a dire Scusate Questa è la prova Che avete cartolarizzato Il mio valore Ok Questa è la prova Adesso basta però Adesso basta Quindi da qui in poi Io non lo uso Per fare una causa legale Non mi serve Fare la causa legale Io adesso lo uso Per porre fine A questo gioco di morte Ok È chiaro Il discorso Quindi grazie Francesco Ho ben capito Sì sì Leggiamo Il corpo PEC Abbiamo aggiunto Un sacco di bella Leggiamo Leggiamo per favore Che tal Eh oddio Insomma Barbara Se c'è qualcuno Che non vuole condividerlo Scusate Non lo faccia Tutte ste storie Dai Stiamo in prima linea Tutti Se qualcuno Non vuole aderire Non aderisca Semplice Se ne vada Scusate Barbara Sono con te Grazie C'è quelle Quelle cosine Che fanno No quello Sono nel computer Delle L'ora Arrivano le palline E i palloncini Bah posso Una cosa Sì Andiamo giù lisci Sì Allora All'azione Sono stati aggiunti Degli indirizzi Tutte le procure Tutte le prefetture I Eh Di ambasciatori Di interesse Eh Quindi Quello di Londra Per L'ammiragliato Eh A New York Poiché I titoli Della finzione giuridica Sono custoditi A New York Eh I direttori Delle Delle banche Che eh Sono Sono i I Rockefeller E i vari eventuali Alcuni principi Il Papa Grigio Eh Ah manca il Bergoglio Non ho messo il Bergoglio Mannaggia Non lo sono scordato Ma no Ma ci abbiamo messo No però Non lo sono scordato Scusa Il Papa Grigio Chi è allora Scusa Il Papa Grigio Bergoglio E il Papa Nero No Bergoglio Allora Edoardo Il Papa Bianco È Bergoglio Il Papa Nero È il Papa Gesuita E il Papa Grigio È Pepe Orsini È la È Grigio È nella È diciamo Nella Eh Nei nobili No? Nella nobiltà Viene Il Papa Nero I nobili Anche lì Le tredici famiglie romane Eh Ma io Tredici famiglie romane È Diverte Abbiamo scoperto Un sacco di cose Negli ultimi giorni Addirittura abbiamo scoperto Che nella famiglia Bonaparte Nonché I dissidenti Della Corsica Erano tutti di canino E allora Mi sono sentita un pochino più Spalleggiati Come dire La famiglia Bonaparte Era di canino Napoleone Bonaparte La famiglia Era di canino Ecco perché L'hanno mandato qui In esilio E questo non lo sapevo Prima Questi sono tutti In buona parte Ce li ha passati Marzia Quelli più specifici A cui Direttamente lei Ha inviato L'azione che ha Fatto Del chargeback Si chiama così Vedete Vari facenti funzioni Il ministro delle imprese Direttore generale Del bilancio Il segretario Del ministro degli appari est E E E E E E E E Facente funzioni Segretario di Stato E Cardinale Parolin Conoscete Parolin Non avete sentito parlare Uno degli ultimi Che è rimasto A favore di Bergoglio Visto che Alla chiusura Della DOD Praticamente Il 99% Dei vescovi Ha dato il consenso Alla chiusura Della schiavitù Non pensate Che è poco Questo Cancelliere Il prefetto E qui Ce l'abbiamo solo scritti Chiaramente Ma dopo Negli indirizzi PEC Ci sono tutti Qui ci abbiamo Ecco qua Gli allegati Sono Puoi salire un attimo Francesco Giurati della giuria Popolari Pubblici ufficiali Pubblici notai E curitori fallimentali Della Italy Republic Cup E World Bank Allegati Numero uno Sono tutti gli autografi Se Invieremo Con la mia Azione Allora La mia azione Conterrà dentro Tutti gli autografi Se Invieremo Senza La mia azione Gli allegati Saranno inallegato A questo documento Un file Allegato E così Farà Lo stesso Di marzo Dopo L'invio Sarà messo A disposizione Il documento Pulito Da ratificare Individualmente E ognuno Sceglierà Gli allegati Che più gli piacciono Esatto Ci saranno Gli allegati Suggeriti E chi non vuole Mettere Parte degli allegati Metterà Quello che ritiene Opportuno Mettere Come sempre La nostra azione È sempre E solo In responsabilità Limitata Lo voglio fare Lo faccio Non lo voglio fare Non lo faccio Scendiamo subito Direttamente giù Perché Abbiamo Da leggere i punti Perché il resto L'abbiamo già visto Qui Uguale L'abbiamo già visto Ecco qua Allora Come già pubblicamente Noto Ci siamo impegnati A dire la verità Tutta la verità E nient'altro Che la verità E nella verità Di uomo vivo Nutro il mio onore Ci direi Metterei Nutriamo Qui Il nostro Onore E qui Persona fisica Cognome e nome Conoscete no? Cognome e nome Nome e cognome Cognome e nome Trattino pure Ci abbiamo messo Visto che Pure questa Abbiamo trovato Nei documenti Di Ether Grazie Marzia Poi ci abbiamo Visto che Questo è di tutti Abbiamo fatto Quello che Potevamo fare Abbiamo messo Le X Per tutte le lettere E lo 0 Per tutti i numeri Così sia chiaro Il TIN È il codice fiscale Che si scrive Col trattino Vedete Le prime 6 Sono le lettere Trattino Numero Numero Lettera Numero Numero Trattino Lettera Numero 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 Lettera Italia L'abbiamo lasciato Perché ci piaceva Che sia chiaro Che noi Lo stiamo inviando Dall'Italia Ma per quanto poi Concernerà la Francia L'Inghilterra La Spagna Chiunque Basterà cambiare Italia Mettere Spagna Perché tanto Sono per tutti uguali Abbiamo anche scoperto Che addirittura All'America Transa In Portogallo I titoli Capite che fanno Forse anche i nostri O saranno in Inghilterra No Chi sa BC e BERT Certificate È scritto così Vedete Ce l'abbiamo scritto Comunque vicino Abbiamo specificato Nella mia azione Non c'era scritto Qui invece c'è scritto Sopra c'è scritto Codice fiscale Sotto c'è scritto Certificato di nascita Poi erano stati citati QSIP e ISIN E abbiamo scritto Cos'è il QSIP È un acronimo Sta per Commitì Commitì On Uniform Security Identification Procedure Il QSIP È un identificatore Per la maggior parte Degli strumenti finanziari Inclusi tutti gli strumenti azionari Degli Stati Uniti E canadesi Canada Trademark Ve lo ricordate Dove sta Il codice civile È registrato Commerciali Paper Obbligazioni E titoli governativi E municipali Degli Stati Uniti Questo è il numero Degli Stati Uniti Poi abbiamo ISIN È la versione internazionale Di questo identificatore Al di fuori degli Stati Uniti Del Canada UNISIN USA Ha spesso le lettere U e S Davanti al numero Quindi si possono individuare Anche strumenti Di altri paesi Come Regno Unito E Australia Dove ricevo Molte richieste Questo lo possiamo cancellare Dove ricevo molte richieste Perché questa è la specifica Di chi ce l'ha inviato Di Brandon Esatto Vedete Da dove riceve molte richieste Dal Regno Unito Dagli Stati Uniti E dall'Australia Perché Ve lo siete domandati Perché Cosa vince In questi tre paesi La common law La base Che non è il diritto comune Non è il diritto comune Non è la legge comune Non è la legge naturale Ma è un Un ordinamento giuridico E vi ricordo Per chi ancora pensasse Alla CLC Che Eter La legge Anzi il diritto comune La common law L'ha messa sotto Il PPTCC filing Ve lo ricordate? È scritto eh Questa parte Allora Qui Qui andavano Le parti Che riguardavano L'azione di Io non riesco a capire Perché riesco a muovere La tua condivisione Io ci riesco Non capisco perché Ah ecco Le l'ha messa sotto Allora Scusami eh Queste Questo Vuoi che le metto su? Allora Lo lasciate in giallo apposta Allora Prendi Viste confermato Che ci ha mandato Marzia E mettilo dopo Charge Back Diritto al rimedio Lì A quel punto lì Qui Ecco L'avevamo da aggiungere Perfetto Allora Togliamo per favore Quello lì E lasciamo gli altri due Giusto Marzia? Era solo esclusivamente Perché Marzia Ce lo doveva tradurre E ce lo doveva Ok Torniamo qua Questo possiamo Toglierlo E aggiungere Allegato due Sotto Dopo la Pubblica Registrazione pubblica Lo vuoi leggere tu Marzia? No Voglio ascoltarlo Da te proprio Va bene Grazie Grazie a te Allora Ve la ricordate la legge dell'uno? Eh Io me la ricordo La legge dell'uno è stata debitamente registrata Nunc protunc pretere a pretera Il 22 ottobre 2012 Nei registri commerciali universali Internazionali Nazionali e statali Washington DC Il filing Andatevelo a guardare Intanto andatevelo a guardare Sti strumenti che dicono Alcuni Sono anche Tradotti Poi se qualcuno c'ha piacere Perché non Vi mettete lì E magari Quelli che non sono tradotti Li traducete Così almeno Apportiamo valore A chi non sa l'inglese Con notifica al momento della creazione Ratifica della notifica di registrazione pubblica Quindi Tale registrazione è stata debitamente registrata Tramite link di riferimento al testo completo E dell'incorporazione del Washington DC UCC filing 593 finale Debitamente eseguito su carta intestata di OPPT Con la piena responsabilità dei suoi fiduciari Debitamente garantiti E debitamente registrati Registrati con il link di riferimento del testo completo Questo è un altro UCC file Notificato al momento della creazione E ratificato dalla notifica di registrazione pubblica Tutti i popoli di questo pianeta E' ugualmente stati di corpo Del e dal creatore Sono stati debitamente registrati Nunc e protunc e pretera pretera Il 25 luglio 2012 Nei registri commerciali universali Internazionali Nazionali E statali Avviso alla creazione E ratificato da un avviso di registrazione pubblica Sta parlando di Eternal Essence Sta parlando di One People Come security party Parte garantita Come beneficiari Giusto? Sì Ascolta Barbara Qua magari una parola Su cosa vuol dire Perché se no Può essere Intesa Questa roba qua Allora Lo dico per chi Magari non lo sa Perché Avendo approfondito Parecchio il discorso Allora Qui Ether Ha proprio messo Assicurato Si dice In protezione Possiamo dire Tutto il popolo E tutte le terre Quindi Qui siamo ancora Nella procedura Che lei ha fatto Che ha depositato E ha proprio creato Questa protezione È una garanzia Quindi se voi andate a vedervelo Questo documento E traducete il collateral Piano piano Si proprio Si legge Molto chiaramente Che lei ha Messo in sicurezza Tutto il popolo E tutte le terre Del pianeta Sono questi due documenti qua Per quello che c'è scritto Registrati Registrati nel senso Come parte garantita Protetta In quel senso lì Grazie Barbara Scusa Anche scherzi Grazie a te Aspetta un attimo Franci Mi puoi mandare il link Di quel documento Doji09-2 È il famoso documento Che eravamo Alla ricerca Che non trovavamo È quello Che non trovavamo Poi vede che Ci avevamo tornato Perché questo è L'archivio nostro No è quello Non ce l'abbiamo noi Come no Io non No Il nostro è l'archivio Questo è Questi sono gli archivi Archivio.org Non è il nostro È il nostro Come no È certo che è dentro Il nostro archivio Come no Aspetta 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 un attimo Fammelo vedere Te l'ho già passato Tesoro Non hai neanche finito La frase Era già lì Grazie Buonanotte mamma Buonanotte mamma Grazie È voluta essere presente Visto e confermato Il valore assoluto Del popolo Del pianeta Terra È stato debitamente Registrato Il 25 luglio Nei registri commerciali Universali Internazionali Nazionali E statali Con notifica La creazione Ratifica Dalla notifica Di registrazione pubblica La Terra Uno stato di corpo Di e per il creatore Con valore assoluto Della dimora Del creatore Su di esso In esso E in esso È stato Debitamente registrato Il 3 agosto 2012 Nei registri commerciali Universali Di Washington Eccetera Eccetera Con avviso di creazione Ratificato Con avviso Di registrazione pubblica Tutte queste registrazioni Sono legittimamente Legalmente Vincolanti Per tutti I precedenti Mandanti Agenti E beneficiari Del sistema Di schiavitù Compresi Tutti gli equivalenti Universali Attenzione Compresi Tutti Gli equivalenti Ci sono degli equivalenti Universali Internazionali Nazionali E statali Perché Dici Universali Ci sono degli equivalenti Universali Barbara Scusa se Ti interrompo Sì Scusate tu Quel documento lì Quel link Il 29 Trattino 2 Non è il documento È la ricevuta E non è il nostro archivio Lì è dall'archivio Di internet È quella famosa ricevuta Dove c'è Il link Del pdf Ma cliccandoci sopra Non c'è nessun link Quindi è solo un'immagine Quel documento Ancora non ce l'abbiamo È l'unico documento Che non siamo riusciti Non riusciamo a trovare Esatto Però sappiamo cosa dice Perché se ce lo scriviamo Sappiamo cosa dice Va bene Andiamo avanti Allora Allora Sono compresi Tutti gli equivalenti Universali Dicevamo Vuol dire Che le corporazioni Non ci sono solo qui Ci sono anche sopra Lo sapete Come si chiamano La contropartita Delle federazioni Galattiche De luce Si chiamano Corporazioni Così tanto per saperlo È stata In base alla linea Di condotte Dell'agente principale Preservata E garantita Dalla politica pubblica Un cc 130 Poi abbiamo La Ecco Questa pratica Se Non l'avevamo tolta Questa Fra No Allora mettiamo Le vostre pratiche Allora Questa qua Eh Era stata Lasciata Perché Nell'oggetto Si fa riferimento Al tuo invio Ok Però io vi ricordo Volevo dire Di toglierle Tutto da qui Dal corpo PEC Ok Proprio perché Non voglio assolutamente Che si Pensi Che deve essere Ratificata Per forza La mia Perdonatemi Se vi interrompo Io vi auguro Adesso la buonanotte Se ne ascolto Grazie 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 Allora Direi Che mettiamo Invece Della mia Le vostre La vostra W Sì Le vostre pratiche Riferite Riferite Ai punti precedenti Vengono Fraudolentemente Agganciate Precedenti Dopopunti Precedenti Ma se lo dico Così Agganciate Vengono Fraudolentemente Agganciate A un trust Costruttivo Che viene Cartolarizzato Dove il giudice E l'amministratore Il PM L'esercitore Fallimentare Il cancendiere Beneficiario Temporale Con un palese Ed evidente Dolo Conflitto Di interesse Prode Riduzione Schiavitù Attenzione Marzia Dopo aver letto Il mio documento Perché l'ha letto dopo Vero Marzia L'ha letto dopo Mi ha fatto una domanda Posso Marzia? Mi ha detto Perché Barbara Allora Perfetto Il punto che hai scritto Va bene Ma perché Non hai scritto Che il beneficiario Sei te Vero Marzia? E la mia risposta È stata Perché io non sono Beneficiario Di quella roba lì Non mi interessa Quella roba lì E loro Sono Questa è la verità Che sono Beneficiari temporanei Perché? Perché il beneficiario Sarebbe La persona umana Beneficiario originale Saresti La persona umana Sarebbe Il famoso Alternato Quello con cui però Ci fanno tutti i bond Che gli pare E piace Quindi siccome io Non Io Ho sposato OPPT Internamente No Soltanto Nell'idea Questo Io non ce lo voglio Scrivere proprio Io non ce lo scrivo Perché io non sono Beneficiario Di quella roba Io sono Beneficiario Del valore assoluto Del primo creatore Però io l'ho detto Che lo so Giusto? Ma Io l'ho detto Perché io ho spiegato Esattamente Ma è Una cosa Marzia Trust costruttivo Sì Ascolta Un'altra parola dietro Trust costruttivo No Non mi ricordo Cosa ti riferisci? Quando parlavamo Adesso Questi giorni indietro Mi hai detto In realtà si chiama Trust costruttivo Ah Discrezionale Discrezionale Scusami Non mi ricordo Sì Allora Qui Se vuoi lasciarla così In realtà Sarebbe più preciso Anche questa piccola Correzione piccola Che avevamo fatto Che sarebbe Che Il cancelliere Cioè Cambiare Cambiare l'ordine Cioè il cancelliere Risulta Il beneficiario Temporaneo Che nomina L'amministratore Del trust Nella Nella figura Del giudice Ok Cioè il cancelliere Cioè il cancelliere Che lo nomi Allora Mettiamolo lì Allora Scusa Franci Dove Il cancelliere È Il beneficiario Temporaneo Il cancelliere È Ok Il cancelliere È Il beneficiario Temporaneo Che Che nomina Che nomina Il giudice Ok Come amministratore Sì Giusto? Il PM È l'esecutore fallimentare Esatto È l'esecutore fallimentare Togli quella E Con un palese Evidente Eccetera C'è anche la parentesi Franci Ah no Ok Ok Abbiamo aggiunto La sentenza Russell Le norme Di diritto In tre Grazie Gianluca Chiotti Le norme Di diritto Internazionale Generalmente Riconosciuto Che Riconosciute Che venissero Ad esistere Esistenza Dopo l'entrata In vigore Della Costituzione Che il meccanismo Di adeguamento Automatico Previsto Dall'articolo 10 Della Costituzione Non potrà In alcun modo Consentire La violazione Dei principi Fondamentali Del nostro Ordinamento Costituzionale Perché è così? Non è questa La sentenza Russell Te la giro Bene Allora Arrivo eh Aspettate che Gianluca È molto 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 Prolipico Nelle ricerche Vedete bene Che questa Strumentale Eccolo Allora Eccola qua Te lo sto condividendo Dovrebbe essere Questo Allora Penso che riguarda La sentenza La sentenza Rassel Questa è proprio La sentenza Tutta Aspetta che ti do Ecco Lui aveva fatto Un estratto Però c'è qui Allora dice Questo è L'estratto Finale Quando c'è Quando il giudice Dice che Tutto ciò che è venuto Dopo la Costituzione Non è che lo va a modificare Quello che è venuto Prima dalla Costituzione L'Italia è già conforme Esatto Era questo Eccolo qua Dice Il fondamento Della questione Va considerato Pertanto Con riferimento A quest'ultima norma Ed il vero oggetto Del giudizio Cui Va rivolto L'esame della Corte Concernente La compatibilità Con gli invocati Principi Costituzionali Della norma Internazionale Di adeguamento Alla consuetudine Internazionale Generale Infatti Già da lungo tempo Ad essa Si è conformato Come pacifico Secondo la dottrina E la giurisprudenza L'ordinamento italiano Per effetto Del principio Di adeguamento Automatico Alle norme Di diritto Internazionale Generalmente Riconosciute Ora Espressamente Previsto Dall'articolo 10 Primo comma Della Costituzione Io non so se riesco A copiartelo Perché è un pdf Sì Aspetta Fra che te lo copio E ci mettiamo Questo Grazie Perché Altrimenti Io devo scaricarlo No no Si ferma Che ci penso io Ok Grazie A noi Eccolo qua Te l'ho mandato Poi ci abbiamo Un po' di storia Intanto che Francesca Scrive Ci abbiamo Un po' di storia Visto il confermato La Uniform Commercial A Spiterina Se l'aspettavamo Vedevi soltanto Tutto levare Tutti gli spazi Dovevi fare copia In colla speciale E comunque devi fare Devi far tornare indietro Ci sono tutti Lì a capo Che non c'entra Niente di cui Va Intanto che lo fai Io continuo E poi va tolto Il grassetto Allora Dicevamo La Uniform Law Commission Fu costituita Nel 1892 In parte Per creare Leggi commerciali Uniformi La legge Sugli strumenti Negoziabili Uniformi Fu approvata Nel 1896 E presto Promulgata In ogni Stato Seguirono Presto Altre leggi Commerciali L'Uniform Sales Act E l'Uniform Warehouse Recipt Act Nel 1906 L'Uniform Bill and Lending Act Bill and Lending Vero? Ti ricorda Niente Sto nome? E l'Uniform Stock Transfer Act Nel 1909 E l'Uniform Conditional Sales Act Nel 1918 L'ULC Si assunse Ufficialmente Il compito Di redigere L'ULC E la Uniform Love Commission Si assunse Ufficialmente Il compito Di redigere Un codice Completo Per fornire Linea guida Per tutte le Transazioni Commerciali Nel 1940 Nel 1942 L'ULC E l'American Love Institute Si unirono In una Partnership Che metteva Tutte le Componenti Leggi Commerciali Insieme In un codice Commerciale Uniforme Completo Che fu offerto Da non confondere Con emanato Fu offerto Agli stati Per la loro Considerazione Nel 1951 Prima Vigevano Tutti questi Act Il vero Uniform commercial A cui ci riferiamo Oggi È nato Nel 1951 Ma la sua Costituzione Parte Dal 1892 Prima Poi abbiamo Una Norma Importantissima Di UCC Ma non solo Di UCC Ve lo dico Di tutte le Legislazioni Nel commercio La buona fede È definita Proprio attraverso Il concetto Di ragionevolezza UCC Selection 203 Primo B La norma In questione Definisce La buona fede Come Honesty In fact And Observance Of Reasonable Commercial Standards Io non sono Brava in inglese Ci vuole Eh Ce lo vuole Che se lo legge Marzia O ce lo legge Susan Che non c'è Stasera Marzia Leggicelo tu In inglese Va che Me lo gusto Scusa Franci Mi fai vedere Dov'è Con il mouse Guarda Qui Honesty Qui No io non lo vedo lì Lo vedo in italiano Allora Eccolo lì Eccolo qua Eccolo qua Ok Ok Honesty In fact And the Observance Of Resentable Commercial Standards Of Fair Dealing In The Trade Può andare Sì grazie Molto meglio Di come L'avevi detto io L'uniform Commercial Code UCC Impone Un obbligo Di buona Fede Nello svolgimento Di tutti i contratti E gli obblighi O gli obblighi Contemplati Da UCC Questo è importantissimo La buona Fede Che vuol dire La buona Fede Che io sto facendo Al meglio Delle mie possibilità Al meglio Della mia Conoscenza Oggi E so Oggi Perché ne vediamo Che ne arrivano Uno al giorno E soprattutto È la base Questa Di un contratto In onore Poi ci abbiamo I documenti Eterni Universali Questo lo conosciamo Bene La declaration In order Che la conosciamo Benissimo Forse Non abbiamo capito Però Che la declaration In order Si rivolge Soprattutto All'interno A quelle Tendenze Interiori Perché tutta La procedura Di eteri Si rivolge A questo Poi la cancellazione Delle banche La principal agent Doctrine Tutta questa cosa E qua Noi ce l'abbiamo In tutti i nostri Strumenti Poi Ho cancellato Abbiamo cancellato Il mio I miei riferimenti Prima era rimasto Uno Ma Qui l'abbiamo tolti È per questo Che prima ho detto Ciao Grazie L'affidavit In confutato Originali Protocolli Quindi questo Va per tutti Originali Protocolli Numero 00XX Come lo scrivete Non importa IEM E Eternal Essence Chiaramente Inviati Da IEM E da Noia Io sono la Nazione One people IEM Insieme È prescritta Valida Per tutti Presù Valida Per tutti I presunti Sedicenti Avvocati Aspetta È valido È valido È valido Fra Per tutti I presunti Sedicenti Avvocati Di parte Di ufficio Che si vogliono Attribuire In frode A uomo Vivo Notificate I responsabili Delle aziende Tribunali Ordinari Di città Duns Number E ai facenti Funzione Della Italy Republic Cov Qui Diventa Totalmente Per tutti Visto E confermato L'affidavit In confutato In legge naturale Essence Essence Qui Gli spieghiamo No Questo L'abbiamo Già Letto Non è Cambiato Da Martedì Questo È tutto Come Martedì Poi Lo dirà Qui vedete Wipe Vedete Scusa Fra Sali un attimo Vedete cosa c'era scritto sopra Che prima L'altra volta Non c'era No Registrazione Canadian USA Vedete Queste sono Le leggi Dove Vige Quella Roba Lì Poi Andiamo Avanti Questa C'era Già Tutta È stato aggiunto Altro Fra Tu che sai Dove le hai giunti No Abbiamo aggiunto Le cose che riguardavano Eh ma allora Allora aspetta però Allora torna su E la procedura Che hai fatto Giusto Marzia Si chiama Charge back Vero Allora possiamo tornare su E rimettere un punto Dove mettiamo La procedura Giusto Allora Dopo Dopo la persona fisica All'inizio proprio Ecco qua Dopo Sì Capo di imputazione Prima di vista E confermato La legge dell'uno Mettiamo Vista e confermato Come si chiama Marzia Charge No Charge Nel Credo che nei tuoi documenti Si sia scritto Charge No è Back Charge Ce l'ho qua Aspetta che lo Acqua subito Sì Dico subito Anche quello Che ti ho mandato Cc Back Charge No è back charge Sai Back charge Barbara Sì Sì Ok Si si è confermato Mettiamo la procedura Di back charge Allegato numero 2 Ho capito Hai ragione Scusami Charge Trattino Back Esatto Tra virgolette Non cambia molto Va bene tutte e due Però No perché Allora È Virgolette Charge Trattino Back Virgolette Esatto E sappiamo benissimo Che Anche le virgolette C'hanno un senso L'asterisco C'è un senso E li mettiamo Allegato numero 2 E Marzia ci ha fornito Tutta la prova Che quella procedura Esiste E quei documenti Esistono Quei titoli Esistono Anche questa è roba Del sistema Vero ma Per ogni firma Che abbiamo messo Allegato 2 Ha detto Barbara Non 3 No Se ci mettiamo La mia Sì è vero Antonia Perché se ci mettiamo La mia Diventa l'allegato 3 Perché l'allegato 1 Sono le nostre firme Con la mia ratifica L'allegato 2 È il certificato L'allegato 3 È L'allegato 3 Il certificato Possiamo anche Non mettercelo Esce già nella mia azione Come preferite Sempre che Lasciamo la tua azione Allora l'allegato 2 È quello di Marzia Mettiamo tutti gli allegati 2 Anche sotto Allegato 2 Anche sotto ancora Allegato 2 Quindi Barbara Scusami L'allegato 2 È il mio Backcharge Esatto Ok E ce l'hai firmato Con quello che mi hai mandato Perché io ti ho mandato uno Senza la mia firma Però Senza l'autografo Allora Perché diciamo Era la forma in pdf Per voi Se volevate prendere qualcosa Se vuoi Ti mando quello che ho mandato Con l'autografo L'impronta Esatto Mi mando Quello originale Che io semplicemente Lo prendo Lo passo A Andrea Nardin Che domani Avrà tutto pronto Perché basterà Che copia questo Dentro E allega 2 allegati E lo spedisce Ok Grazie Grazie Il resto Scorrilo velocemente Fra Perché vorrei Che il popolo Vedesse tutto Che è identico A quello che abbiamo Letto la volta scorsa Ascolta Ma però Allora Allegato 2 Anche a riferimento A questo Che riguarda sempre L'azione di Marzia E anche questo Giusto Esatto Esatto Che comunque Sono anche Sono documenti Della procedura Di UPPT Che noi abbiamo citato Sotto Ok Rimangono Citati lì Perché Marzia Li ha citati Nella sua azione Specificatamente Mentre noi Quando parliamo Di documenti Derni universali Parliamo di tutta La procedura UPPT Ok Più piano Perché non è vero Che non abbiamo Aggiunto un'altra cosa O meglio Dobbiamo aggiungerla Questo vedete L'ho cancellato Sali su ancora Nelle ultime cose Eccolo Abbiamo scritto questo Principio riconosciuto Nella The Atlantic Charter Articolo 3 Questa roba qui Noi la legheremo La metteremo A disposizione Sul sito Come Fonti Abbiamo aggiunto Abbiamo aggiunto anche La carta La carta Del Patatantico Ok Questa Questa Ce l'ha aggiunta Questo è tutto Ma non dobbiamo Spedirla Eh sta roba Adesso La metteremo A disposizione Del popolo Per Conoscenza Di quello Che c'è scritto Anche se Questa roba qui La trovate Tutta su internet Perché sono Tutti Principi Abbiamo Sancito La ricusazione Eccolo Filomena Non so se c'è ancora Ordine esecutivo Di ricusazione Del giudice E dei facente Funzione Di ogni ordine Grado Della magistratura Italiana Con pregiudizio E disonore Da fornire scritto E inviato Con notifica PEC A omo vivo Nome e cognome Vedete che è sparito Di nuovo il mio nome Da parte Della vostra Corte Costituzionale Del vostro Consiglio Superiore Vostro Decreta la nullità E l'invalidità E l'igiettibilità Del preteso Vostro atto Questo perché Ognuno di noi Poi questo ce l'avrà A disposizione Con i suoi dati Da mandare E l'impossibilità Di contesto Tribunale Privato Di Non viterbo Di Città E dei facenti Funzione Di ogni ordine Grado Di sentenziare Sul caso In oggetto Per conflitto Di interesse Interessi Vulnus Vuoto giurisdizionale Esistente E insistente Nelle competenze Giuridiche Di tutti i magistrati Della magistratura Della Italy Republic In ordinamento giuridico In ordinamento giuridico Civillo Diritto positivo Impositivo Privato No privato Te lo dico io Non c'è bisogno Che lo scrivi Il nome del popolo Sentenza definitiva Di convocazione Di uomo vivo Chiunque E due testimoni Da esto Nominati Da parte Del sedicente Giudice In caricato Del ruolo In oggetto Nel tribunale Privato In quanto Il tribunale Pubblico Non ha competenza Nel merito Su uomo vivo Anche questa informazione Vero Marzia Ci hai portato Applicazione In tempo immediato Del reme Di compensazione Di ogni e tutti Protocollo Numero Di tutti i protocolli Difidiamo Tutti i rispondenti Nel proseguire O far perseguire Attito Esemplificativo E non esaltivo Le azioni Vestazioni Criminose Terroristiche Mafio Vestatorie Terroristiche Mafiose Fraudelente Schiavistiche E poi ci abbiamo scritto qualcosa Che Sinceramente Ci andava scritto Vista la cospicua Documentazione Già fornita In precedenza In precedenza Da tutti noi Vi informiamo Che qualora Gli allegati Presenti Non dovessero essere Adeguatamente Valutati Entro 72 ore Dalla data Di presentazione I medesimi Saranno considerati Accolti Nel contenuto Sotto l'egida Del silenzio Assenso Attenzione La parola Egida Non è stata Fatta a casa È A un motivo Egida Trovatela Vostra Costituzione Registrata Nel caderno Di a Trademarket Non negoziabile E giù Terra Italica Firma Chiaramente Eternal Essence Abbiamo lasciato La Bibbia Della legge naturale Come ci è stato Comunicato Lo sentirete Nell'incontro De Salerno Da padre Matteo Non a caso Si chiama Matteo E poi Giù giù Procedura Ratifica Ordine esecutivo Di recusazione Del giudice Protocollo Questa è la mia Codice Gens Global Immunity Già c'è dentro Vedete E autografia Ratifica Perché andranno Tutti dentro Quella ratifica E la procedura Back charge No Charge back Come Codice Gens Gens Con la T Così E charge back Con la trattino E mezzo Almeno trattino Mettiamolo in tutti I due modi Sopra l'abbiamo messo Le virgolette Sotto lo mettiamo Sense Perché Ascolta Barbara Vuoi mettere Anche il riferimento Del numero Del documento Lo vuoi lasciare Così generico Se ce lo dai Marzia Noi ce lo mettiamo Sì adesso Te lo sto comprimendo Te lo sto Lo sto mandando Però puoi mettere Già qui Charge back Che è Numero Perfetto Allora Tutto maiuscolo C B C L Che sarebbe Charge back Cover letter Tutto maiuscolo Perfetto Trattino Ok Uno 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 32023 Trattino MB M Maiuscolo B Maiuscolo Che sarebbe in alternato Ok E non so se ti interessa Anche l'altro Che è Il Bill of Exchange Quello lo vuoi mettere Anche in allegato Certo Vanno insieme Vanno insieme Perché il back charge È la lettera di accompagnamento Mettiamolo Il bill of exchange È l'ordine di pagamento Allora Mettiamolo adesso qui Allegato sempre due E poi andiamo su E poi andiamo su a mettere back charge E lo aggiungiamo E lo aggiungiamo Ok Ok Allora Bill of exchange Sì Punte virgola Bill of exchange Intanto poi te lo mando Tutto maiuscolo Bill Ok C'è una U qua Tra È Bill Non Bull Bull Red È il toro Eh sì E punte virgola Dopo MB Per favore Aspetta Aspetta Ti do il numero Ti do il numero Allora Bill of exchange Perfetto Perfetto Bill of exchange Allora Numero Allora Le prime tre Sono sempre le tre lettere Del nome Quindi B O E Tutto maiuscolo Perfetto Trattino Sempre uguale a prima 1 1 1 Ok 3 2 0 2 3 Trattino MB Maiuscolo Nel frattempo Saluto e ringrazio Susan Che sta facendo ricerche Nel frattempo Sporna e dice Torna Col Comwell 1951 Torna tutto Ma va Torna tutto Sì I 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 Ritorni Contano Allora Mettiamolo pure sopra Però Ebra Il Commonwealth Il Commonwealth È Quello Che Governa L'Uk Ok Il Commonwealth Comprende Praticamente Mezzo Mondo Dove C'è La Commonwealth Eccolo Eccolo lì L'hai Passato Eccolo Là Eccolo Là Back Charge K Qui su Qui su Qui su Eccolo Lì Charge Back Punta e virgola Oppure Metti Eh no Bravissimi Bravissimi Mettogli il punto Dopo Back Barbara Però qui c'è Charge Back Va bene Sotto c'è Back Charge No Infatti Mi sa che l'ha corretto C'era Back Charge Charge Back Charge Back Non c'è messo il punto e virgola Franch Ecco Charge Back Potresti togliere anche Il Bravissimi Oh ragazzi se mi vengono a prendere mi ospitate Barbara Vengo a casa tua Brava Così Brava Brava Tu vieni Tu lo sai Che la porta a casa mia è sempre aperta Sempre Tutti i sensi Non c'è bisogno Questa Questa è una protezione Come ci siamo già dette È una protezione per te Che hai fatto tutto questo Proprio per Fare in modo che noi avessimo le prove Di questo E per me Che ho utilizzato Questo strumento E come giustamente detto Chi lo sa Di solito sta zitto Invece io proprio gliel'ho detto Ma soprattutto Per tutto il popolo Che finalmente Sarà Quel popolo che ha portato una verità E la sbandierata Non se l'è tenuta per sé Allora se vuoi Se Può essere utile Io posso condividere Il mio Chiusi Sul certificato Sul lato di nascita Tanto ce l'hai Nella tua azione C'è no? Nella mia azione No Qui quando ho mandato questi Non c'era Perché non l'avevo ancora trovato È di novembre Quest'azione qua Quindi se vuoi Io posso far Ma se lo vuoi Per dire adesso Condividere lo schermo Sì così lo facciamo Vedere al popolo Se qualunque Non lo interessa Vedere come fa Grazie Così il popolo Lo vede Finalmente Come è fatto Sì 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 Ma è una cosa Sì sì Molto banale Aspetta lì Allora Popolo Aspetta Emanica Sai che sappiamo Chiunque No no Ma è stato lo certo Ecco Chiunque decide Che questo strumento Che contiene Il back charge Il chargeback Scusate E il bill of exchange Di Marzia E la mia azione Con lo strumento Del global immunity Codice Gens E vuole mandarlo Così Lascia l'autografo Se non volete mandarlo Basta che comunicate Alla Francesca Paletchini Che non volete Il vostro autografo Su questo strumento E verrà tolto Come è stato fatto Per le altre cose Francesca Ti prego Se ti arrivano Tanti autografi Me lo dici Che ti aiuto io A levarli No vabbè Sono Non ti preoccupare Sono già attrezzata Non c'è problema Basta che però Mi venga detto Perché Mandatemi un messaggio Mandatemi un messaggio In privato Su Telegram E me lo dite Io lo elimino Perfetto Invece di togliere L'autografo Se ne possono mettere Più di uno In che senso Per quello che state facendo È stupendo Guarda È una cosa magnifica No no Non si può mettere Più di uno No O si mette L'autografo O si mette Per le quantità Era uno scherzo Per dirvi Quanto Siete Stupendi Tutti quanti Mi hai rubato La battuta Guarda Guarda Giuseppe Ti dico che comunque Ne sono arrivati Più di uno Dello stesso Anche sia autografo Che più di pagina Per cui era proprio Sentito Vivamente Però ho dovuto Sceglierne uno No i miei rimangono Credo che C'è una Vischiosità Del nostro Sistema Allora Allora Cara Marzia Visto che il popolo Ormai Sa tutto Il contatto Di Francesca Ci sei vero Francesca Tu assoluta Integrità Quale Francesca Tu amore Tu Ah io Sì In che senso Ci sono In Ti trova Magari Se tu metti Un messaggio Su assoluta Integrità Dici Sono io Chiunque vuole Togliere L'IM Scrivesse a me Ok Ok Faccio subito Certo Barbara Strada A questo punto Certo che Lo stiamo facendo È un corso Accelerato Abbiamo fatto Negli ultimi Quattro anni Ve lo posso Assicurare Perché Negli ultimi Quattro anni Si sono concentrate Una quantità Di informazioni Incredibili Allora Io vi ripeto Il titolo Di valore Anzi Il certificato Di nascita Come titolo Bond Io l'ho visto Nel 2005 In una situazione Un po' particolare Dove mi sono trovata Con Una valigetta Nera Aperta Io zitta Da una parte Bona Aperta E sopra c'era Il certificato Di nascita Di Andreotte Ora mi direte In che istituzione Ricordate Lavoravo in un Negozio di grafica Però Questo è successo Ora quello che ci Mostrerà Marzia Invece È quello che Gli è stato fornito Prego Marzia Gli date la condivisione Dello schermo Suspense Volta Suspense Te lo dico Ditelo popolo Che non vedete L'ora di vederla La schiavitù Lo posso fare Lo posso fare già Penso di sì Apri Vai La condivisione No L'organizzatore Ha disabilitato La condivisione Dello schermo Chi è l'organizzatore Siamo 96 Francesco Io Ha passato anche a me L'organizzazione Ma io non posso dare La condivisione schermo Ho già guardato No Passamelo Marco Bignozzi Non c'è Allora la passi alla Franci Ce l'ha la Franci Ce l'ha la Franci Ce l'ha la Franci Ok Lo vedete Ok Benissimo Allora Beh Parte questo Che è la spiegazione Del titolo Quindi praticamente Questo qui È Io ho mandato Semplicemente Il mio nome Il cognome La data Di nascita Il numero Che è questo qui Il numero Del mio certificato Del mio atto Di nascita Il comune Che l'aveva rilasciato Che è Questo qui E loro trovano Il titolo Ma è una cosa Molto semplice Cioè è una cosa Abbastanza Io pensavo di chiedere Chissà cosa Invece è una cosa Che fanno tutti i giorni Questo qui È il simbolo Del titolo Quindi si può andare Sia su un sito Qualunque Di trading Che può essere Fidelity Piuttosto che un altro Qualunque Anche su internet Scrivi solo Questo simbolo qua E viene fuori Tutto l'andamento Questo qui Ha un Qzip Che è questo qui Ha un Easing Che comincia con US Che è statunitense Quindi è un titolo Che è stato Diciamo Viene trattato Sul mercato Statunitense Quindi vabbè Poi c'è tutto il giro Che fa dall'Italia E questo C'è la data D'inizio Di questo tipo Di fondo Sono tutti I fondi comuni Il nome del titolo È questo qui Goldman Sachs International Equity Income Fund È questo qua Dove Lavora Un mutual fund Sul numero Del passaporto C'è un altro Mutual fund Sul numero Della carta D'identità C'è un altro Mutual fund Sulla patente Di guida C'è un altro Mutual fund Sul prestito Mutuo C'è un altro Mutual fund Quindi ce ne abbiamo Tipo 40 testa Di queste cose qua E queste qui Sono le cifre Cioè il fondo Quando l'ho fatto io Che io l'ho richiesto Era il Qua Aspetta Io l'ho richiesto 6 gennaio 6 gennaio 2024 Esatto E questo era il valore Del fondo Questo qua Che vedete qua Questi sono Vabbè Miliardi Un miliardo 284 milioni 223 mila Dollari Roba da madre Scendi giù Gli fai vedere Anche l'andamento Che ci fanno Ah no Non ce l'ho Eh non è qua Bisogna cercarlo Proprio sul Sul titolo Ma lo vedete Come c'è questo Disegnino Che dice Che è in salita Sì Adesso questo qui È il timbro Questa qui È un'azienda Che cerca La Dica La Dica Sì Sì È un'azienda Sono tutti in salita Comunque Sappiatelo Comunque si può vedere Per esempio Se tu vai Su Internet Per esempio Adesso non so se lo posso fare da qua Comunque basta Basta praticamente Scrivere Questo simbolo Del titolo E viene fuori l'andamento 24 ore su 24 Ce lo puoi vedere Proprio in tempo reale Cosa sta facendo Ma quel simbolo L'hai per tutti Marzia? No questo è il simbolo Di questo fondo Questo simbolo Corrisponde al Goldman Sachs International Equity Income Fund Sì ma è legato È legato al tuo È legato al tuo Marzia È legato al nostro No no Non c'è solo il mio Qua dentro Ok ok No no Loro impacchettano Tutta una serie Di Praticamente Per avere Questo tipo di informazione Bisogna avere accesso A un terminale Bloomberg Quindi ci vuole Un tecnico Che lavori A Washington Street A Wall Street E che abbia accesso A questo tipo di terminale E lui Trova La corrispondenza Tra questo E questo Allora siccome io Non mi sono fidata Ho detto ma che ne so Magari se l'ha inventato Questo qui Cioè che ne so Che io è proprio questo Che corrisponde al mio atto di nascita Allora l'ho chiesto A un altro broker Ho chiesto a un altro broker La stessa cosa Nome e cognome Maiuscolo Numero dell'atto di nascita La data E il municipio Di rilascio Uguale Stesso risultato E così ho fatto anche Per il codice fiscale Per il mio prestito In banca E quindi direi che insomma La prova del nove Ma scusa Marzia Questa cifra Che compare In questo documento Che poi vedo Che Adesso non ho gli occhi Poi non lo so pronunciare Ma Che La cifra Che cosa corrisponderebbe All'ultimo bond A quanto vale il fondo A quanto vale il fondo In quel momento lì Questo fondo Quanto vale Questo qua Questo qua Questo qua Che è proprio collegato Il fondo di Marzia Il tuo Legato al mio Non è solo mio No Allora non ho capito Non ho capito Barbara Scusa Allora non riesco a capire Scusami Tu hai detto Che questo qui È il fondo comune Non è il tuo No 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 Aspetta Allora per fondo comune Vuol dire che La tipologia Del fondo Non comune Nel senso comune Si chiamano Tutti i fondi comuni È la tipologia del fondo Che è un contenitore Che racchiude Puoi andartelo a vedere Che cos'è un fondo comune Che racchiude Tante partecipazioni Che sono Eni Che ne so Telecom In questo caso Goldman Sachs Vanguard Oppure Non so Evergreen Acciaio Ornistar Acciaio Ci sono tante partecipazioni No E il fondo comune Funziona Che In base a quanti A quanta percentuale Di queste partecipazioni Tu hai acquistato Alla fine dell'anno Loro distribuiscono I dividendi E mi hanno spiegato Che non scade mai Non scadono mai I fondi comuni Cioè vanno Vanno a oltranza Vanno a oltranza Quindi Tecnicamente lo chiamano NAB Net Asset Value Sì Credo di sì Adesso io non sono Un'esperta 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 Del fondo All'atto Del momento In cui viene Fatta la foto Quello è L'importo Complessivo In cui c'è Una quota A parte Di tutti I partecipanti Che sono Come se fossero Soci In realtà Perché si Costituisce Anche poi Un'assemblea Quindi Se uno lo fa Direttamente Ti comunicano C'è l'assemblea Di questo caso Chiaramente Non arriva Non arriva Non arriva Niente A me Non arriva Niente Neanche La cedola Perché io Sarei il beneficiario Originale Quindi avrei diritto Per quello Che io ho fatto È proprio il diritto Siccome ho un diretto Interesse A questa cosa qua Perché è stata usata La mia garanzia Il mio valore A garanzia Di questo Come quello Di tutti gli altri Io avrei Un diretto interesse Quindi io ho richiesto Il mio diretto interesse Praticamente Che è limitato Sostanzialmente C'è un documento All'interno del quale Viene stabilito Che tutto quello Che sarebbe potenzialmente Una redditività Una rendita C'è una costituzione Relativa a una rendita A quel periodo Viene automaticamente Reinvestita Certamente Certo Certo E siccome si chiama Discrezionale È discrezionale Non devono comunicare Al beneficiario originale Io sono Il beneficiario originale Poi ci sono Tanti altri beneficiari Al mio posto Ok Ecco Più o meno Questo è il succo Del bobbisco Quindi Marzia scusami La tua quota Del miliardo e due Eccetera Sei riuscita A stabilirla Insomma No Non ho idea Di quanto sia Perché qui ci vuole Un broker Io ho fatto già Cioè per arrivare A capire Questa roba qui Ci ho messo Cioè ho dovuto Fare delle grandi interviste Perché non è il mio mestiere Quindi io per arrivare A capire come funziona Questo meccanismo Ci ho messo Comunque Detta molto semplice Io Si chiama proprio Diretto interesse Cioè il beneficiario originale Ha un diretto interesse Sulla cedola Perché è una cedola Dell'investimento Solo che siccome Tu sei scomparso Non esisti E sono altri beneficiari Perché questa cosa qua Viene fatta Dalla Italy Republic of Cioè la Italy Republic of Che investe A partecipazioni Nell'acquisto Di questo tipo di fondo Capito Ma a garanzia Della Italy Republic of Ci sono io Quindi a me Non mi arriva niente Diciamo Ecco io come voi Ecco ci siete anche voi Praticamente Ok Ma lo sai cosa fanno? E mettono Praticamente Delle deleghe false Certo Menzogne Sempre menzogne Ma è una truffa La base E quindi il resto È tutta acqua che cola La truffa Ce l'avete davanti agli occhi Ragazzi Questa è la truffa Grazie Marzia Grazie Con l'impegno Due anni Grazie tanto Marzia Ma figurati Ce l'avete tutti Ce l'avete anche voi No ma grazie È bastato bene lì Guarda Già hai fatto tu per tutti noi Te ringraziamo tanto Ma se lo possono anche tenere Noi vogliamo l'accesso diretto al valore Certo Certo No Anch'io Anch'io giustamente Volevo solo dire Grazie È questo il segreto di stato Di cui parlava Barbara prima Cioè il fatto che Non si può dire Non si può dire Questa roba qua Quindi noi invece la diciamo In un modo Praticamente Che lo sappiamo Tutto qua Ecco perché Capite che L'importanza che Se il popolo Tutto Vede le prove Di questa roba qua Cosa può succedere Il discorso di prima Certo Eh Ma se lo posso attaccare Sul parabrezza della macchina Questo Eh ma Ma perché ci devi mettere chiusi Scusami Amo francese Fammi capire Perché ci devi mettere la frode Perché mi devo divertire Mi devo divertire Allora mettici l'Universal Pass Perché mo lo sanno Che la sappiamo bene Già la sapevano Ma questa è ancora di più È la roba Posso confermarlo Posso confermarlo Io metto l'Universal Pass Tranquillamente Al parcheggio Guardano E vanno via Non La macchina Non la notano proprio Fanno la multa a quella vicina Non alla mia Questa è la testimonianza Per E non ho Fatto azioni Per la macchina Certo Ma cosa succede C'è la consuetudine del popolo Ragazzi C'è la consuetudine del popolo Cioè quindi Quando vedono Quell'Universal Pass Lo sanno bene di chi è Capito? Certo Barbara però Ci sono degli atteggiamenti Nella vita Che sono fatti anche di soddisfazione Ti immagini entrare In banca Proprio in direzione generale Con un documento del genere No ma Ma per divertimento Per divertimento Mamma mia Hai risato Scusate Perché stiamo ratificando Sto documento Con quello Quell'altro Dalla nazione Lo stiamo facendo Perché ognuno di noi Potrà prendere Questo documento Non importa che c'è scritto Marzia Biancardi È la prova Marzia Non ci servono Diecimila Chiusip Ne basta Uno Però diecimila persone Che lo Che lo fanno vedere Ma diecimila Che fanno vedere l'azione Che stiamo Stasera Allora diciamo che questo qui Perché dà molta forza Nessuno ti potrà Ah ecco Spiracy theory E cospiracy theory No non è Cospiracy theory Qui c'è il mio chiusi Cosa stai dicendo È È per questo Che faccia la messa a disposizione Solo per questo Solo per questo Non è Non è perché Non serve di fatto Cioè loro lo sanno benissimo Che c'è Però quando il popolo Comincia a dire Ma guarda che lo sappiamo Anche noi che c'è È lì la forza È Quello che dicevamo Ma come mai Dici che ci sono Sette bond In che senso Sette bond Cioè non ho capito Barbara diceva Anche l'altra volta Che Non ce n'è solo uno Di bond Barbara aiutami Non ce n'avrai 40 40 45 8 9 10 Su ogni cosa Che hai messo la firma È stata cartolarizzata Ogni cosa Anche l'estratto conto Che ti arriva tutti i mesi Tutti ogni tre mesi Dalla banca È una cartolarizzazione La tessera della bocciofila È stata cartolarizzata Anche quella Tutto dove hai messo la firma Loro hanno cartolarizzato E tutto quello che sta qui dentro È I di digitale Ragazzi Sappiatelo Perché è molto importante Che non ci venga in mente In questo momento Di rientrare dentro il sistema Perché mai dovremmo rientrare No 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 Non lo trovo Rientrare per che cosa Rientrare per fare che cosa Per dargli l'idea digitale Grazie Ma no Per sicuro Volevo chiederti una cosa Una precisazione Per ottenere il Q-Zip Devi avere l'avallo Di un broker Ah paghi Un broker Certo Certo Paghi Non è economico Non è economico Può sapere quanti soldi costa? Allora io ho chiesto a due Ho chiesto a due diversi Puoi dirlo Sì certo È una cosa pubblica Cioè chiunque lo può fare Nel senso Io l'ho trovato Dopo tanto che li stavo cercando Ma loro lo fanno costantemente Tutti i giorni Cioè è una cosa molto banale questa Perché è molto usato per diciamo Smascherare le frodi Dei prestiti bancari Delle cause legali Perché anche la causa legale Di Barbara E di tutti quelli Che hanno un numero di protocollo Viene cartolarizzata Pure Quindi anche quando tu hai Tutto Tutto Ma io ne avrò 60 Allora Ecco appunto Allora hanno guadagnato tanto Sei una buona cliente Perché se ne hai 60 Hanno aperto 60 60 tipi di fondi Quindi figurati Quindi ci sono questi due ragazzi Di cui uno è proprio un ragazzo Perché non è lui Ma lui ha un amico broker Devi avere accesso a un terminale Bloomberg E quindi paghi e lo fai Io gli ho mandato i dati E lui ti manda via mail E poi c'è un'altra Che è un'azienda Una ditta Che si chiama Mortgage Che sta per Mutui E online E admit E una cosa del genere E anche loro paghi Quindi la cifra Quando l'ho fatto io Che l'ho fatto la prima volta Ho pagato 250 dollari A Qsip Che è poco Mi dicono poco Perché da lì in poi Questo ragazzo Che è giovane Ha poi aumentato Si è messo un po' Al pari degli altri Sono circa 450 Circa 70 dollari A Qsip Che con l'IVA Diventano 500 erotti Ma quindi sono americani Questi ragazzi Sì sono negli Stati Uniti E noi in Italia Non ce l'abbiamo La possibilità Se tu conosci qualcuno Che ha accesso A un terminale Bloomberg Sì Ok Hai di conoscere qualcuno Che ha accesso A un terminale Bloomberg Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ok Allora glielo puoi chiedere Mi puoi mandare Un messanotto Non ci dà il numero Mi scrivi dove Deve fare la ricerca Ah io non lo so Ah no no Io non lo so L'ha fatta lui la ricerca Io ho solo L'hai detto adesso L'hai detto adesso Un terminale Bloomberg Eh Ah ok Posso scrivere Deve chiedere Dove Hai detto che tu ce l'hai in Italia No qualcuno che Molto bravo Terminali Bloomberg Allora gli chiedi No 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 Non ti ho detto che Ho detto che è un ingegnere informatico Che sicuramente Sicuramente può prendere la sicurezza Ah non sa niente No no Non c'entra niente No ragazzi Non c'entra niente Non c'entra niente Stiamo parlando della borsa Di New York Eh certo Ma fuori luce i contatti Allora gli chiedi Di fornirti Un broker Che ti fa Questa ricerca E vi dico anche un'altra cosa Stanno cominciando Come giustamente A rendere sempre più difficile Questa ricerca Anche se lo fanno giornalmente Chissà perché Una cosa Attenzione Questa azione È già completa Di tutto quello che serve Ora Potete andarla a cercare Come vi pare Perché ognuno è libero Ricordatevi Che ogni volta Che fornite un codice fiscale Anche per una ricerca Anche per la ricerca Che ha fatto lei Aprite un altro Cusif E vi beccate un altro Bond Sulle vostre spalle Poi per prenderlo Non è così semplice Non è così facile Eter è andata a fine In carcere Per questo Ve lo ricordo E Marzia A oggi Non ha avuto ancora Risposta Da Agosto Eh novembre Da novembre Non ha avuto ancora Nessuna risposta Ok Non è che me l'aspetti No no Marzia Non è che qui Uno lo fa Per andarsi a prendere Non sono nostri Questa roba qua Non è roba nostra No lo so Ti ringrazio di averlo detto Marzia Assolutamente Non è niente Però è la verità No no È la verità Che loro Capitalizzano È già la potenza È enorme La verità È una Ma Cioè Adesso Barbara È saltata forse No ma Nel senso A noi sembra strano Ma chi è nel Nel trading È abbastanza normale Cioè È una cosa Molto Banale direi quasi Cartolarizzare tutto Viene cartolarizzato Sai Marzia Che cos'è Credo Già È una cosa enorme È una cosa enorme Dirgli Non mi rompete più le scatole Io Ecco io ho fatto quello Esatto Non voglio che mi Rompete più le scatole Esatto Io ho fatto quello Ho fatto quello Cioè Io l'ho mandato Per dire Qui Le cose stanno così Io lo so La prossima cosa Che mi arriva Qualunque sia Vedi che te lo dico Direttamente di mandarlo Al segretario del tesoro Al segretario di stato Che già ce l'hanno Quindi chiedi pure a loro Prendili pure da là Prendili lì Bravissimo Quella è un po' la mia idea Poi io sono una pioniera Non c'è Quindi Marzia Ecco Perdona la domanda Tu in pratica L'hai ratificato Questa Questa tua ricerca L'hai mandata Gli hai detto Guarda Io so la verità Secondo Come diceva Mi sembra Francesco Ma secondo te Non conviene E lo metto Come ipotesi Riratificarlo Ma con tutti Gli I.M. Nostri In modo tale Che si rafforza Molto di più Sapendo che Tanta gente Conosce Questo tuo problema E sicuramente Non ti verranno A prendere Ma scusate Perdonatemi È caduta la linea Dove sei Dove sei andata Perdonate Eccomi Eccomi Adesso Alzo la mano Aspettate Mi è proprio Caduto tutto Scusate Ma Marzia Secondo voi Perché ce lo sta dando Perché non è ratificato Con tutti i nostri Autografi Perdonate Cioè è nell'azione È esattamente quello Che stiamo facendo È esattamente quello Che stiamo facendo Ecco perché È così Ecco perché Lo vedete come Esiste Ero talmente preso Dall'emozione Di questa storia Coordinata Cooperazione E la coordinata Cooperazione Avviene Anche attraverso I mezzi del sistema Perché Perché il sistema Siamo noi Perché il sistema L'abbiamo tenuto In piedi noi Per anni E anni E anni E siamo qua Sapeste quanto siamo duri A lasciarlo andare Duri È software È certo Cerco di rientrare Ma niente Non funziona Non si può fare Vi lascio No Dal computer Ma tanto stiamo Per andare E quindi Ci provo Ma Allora Nel frattempo Io te li ho mandati Li ho messi tutti e due Grazie E l'altro Così si può guardarli Li passerò subito Ad Andrea Nardin Stasera E così Sarà pronta Immediatamente Disponibile Domani sera Domani In giornata Vedremo Andrea Quando potrà Ce lo comunicherà Possibilmente Apriremo una zoom E faremo L'invio Se no Adesso Mandiamo Tanto noi siamo Multidimensionali E soprattutto Come diceva Eter Unidinomics Uno dinamico E quindi Se noi stasera Qui siamo In coordinata Cooperazione Cosciente E consapevole Che non c'è Buono E cattivo Ma c'è Uno No Uno Punto Più uno Fa Uno Uno Ecco Se siamo lì Comprendiamo Che quello Che stiamo Facendo stasera È propedeutico Per l'accesso Diretto al valore Direttamente Da loro Ma no Dei fondi Del credito Del vero valore Che sono i fondi Fuori dal sistema Sono i veri fondi Quelli che non sono Nel loro Sporco di sangue Lo capite Che questo È il ripristino Questo è il ripristino Perché se quell'ora È sporco di sangue Glielo dobbiamo ridare tutto Gli dobbiamo ridare Tutte le monete Del gioco Monopoli Vuol dire tutte No Me le tengo Un paio Perché mi fanno comodo Perché se no Il gioco La scatola Non si chiude Siete d'accordo Mi fate entrare Eccomi Entro con quell'altro Col computer Che sono più grande Voglio sentire Le ultime mani alzate Abbiate pazienza Scusate Mui farà casino Avevo una domanda Per Marzia Quale delle leggi biologiche Ti ha spinto così Con una tale potenza Ah guarda è facile Costellazione 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 Megalomane E costellazione Maniacale Che c'ho dalla nascita E quindi se non c'avevo queste Non ci sarei arrivata mai Come tutte le altre cose Come tutti noi Come tutti noi in un certo senso Marzia Secondo me Siamo un po' tutti Megalomani E maniacali Perché? Perché Non ci deve Spuggire niente Perché Abbiamo deciso Di portare a termine Sta cosa E la portiamo A termine A servizio Sì Secondo me La cosa proprio bella Di questo È che ognuno Fa un pezzetto In base a quello che Cioè ognuno Porta qualcosa No? In questo discorso E quindi Io sono contenta Di aver trovato questo Perché proprio Lo cercavo Mi sembrava impossibile Che non ci fosse La possibilità Di trovarla Questa cosa qua E quindi poi Ognuno porta il suo pezzo E alla fine Da una parte E dall'altra Si deve arrivare Si deve arrivare Per forza Perché quando c'è L'intento Di così tanta energia Tutta focalizzata lì È difficile Che non si arrivi Difficile Secondo me Siamo già arrivati Siamo già arrivati Ma questo documento È l'insieme Dei pezzetti Di tutti noi Lo capite che Il documento È la base Questa è la base Quella della nazione È stato fatto Da noi Ogni pezzetto È stato aggiunto Da qualcuno Ora Ora Marzia Ha aggiunto questo Ora Qualcun altro Ha aggiunto Un altro pezzo Il documento È stato Redatto Per un'azione No È stato redatto Per tutte le azioni È l'azione Che ha fatto Da porta Ma è stato Redatto Per tutti Gianni Prego Buonasera Allora Io volevo aggiungere Una cosa Riguardo a quando Quando sento dire Che siamo Scili fuori dal sistema Oppure il bond Non è nostro Però nel momento stesso Noi attualmente Utilizziamo tutti L'euro Quindi nel momento In cui tutti Utilizziamo l'euro Siamo ancora nel sistema Non siamo usciti Questo volevo aggiungere io Grazie Allora posso Posso aggiungere Io che Fino a che Non comprendiamo Che Il tuo sistema Sta in piedi Perché noi Ce lo manteniamo Allora Sinceramente Non abbiamo ancora Un piede fuori dal sistema Questo aggiungo io E tu mi dirai Ma devo fare benzina E io ti rispondo Nel mio mondo La benzina Non c'è Perché la madre Viene rispettata Questo E stiamo andando lì Non stiamo andando In un mondo Dove utilizzeremo L'euro Un po' meglio Stiamo andando Dove La madre Verrà rispettata Totalmente Rispettata Almeno io vado lì Poi se stiamo andando Tutti lì Ci vediamo lì A fa festa Se andiamo in altri posti Ci avete Tutto il mio rispetto Perché? Perché è una scelta E le scelte Vanno sempre rispettate Se posso dire A tutti gli uomini Qui dentro Di ringraziarvi Specialmente A voi donne Che vi siete dimostrate Superiori E voglio Ringraziarmi E spero che tutti Gli uomini Si uniscono Al mio grazie 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 donne Grazie Grazie Ma anche noi Sorelle Donna con donna Ci uniamo Posso io Aggiungere Grazie Che in questo popolo C'è una quantità Di maschili Di potere Quindi Sani Che sinceramente Io mi sento Di ringraziare Con tutto il cuore Perché se non Tornava il maschile Perché se non tornava il maschile Mi sa che noi Ci avevamo da fare un bel po' A fare la guerra Spero che le donne Siano d'accordo con me Grazie Grazie uomini Sì certo Grazie Allora C'è qualcuno che voleva parlare Sì Barbara Allora Adesso si è capito Perché la serata Era partita così carica Così forte Perché è stata una zoom Bellissima E quindi io vi ringrazio Da parte mia Mi dispiace solo Che non posso contribuire Perché ancora non ho Questo codicillo Ma provvederò Quanto prima Però il mio contributo Ve lo do lo stesso Perché poiché è già passata La mezzanotte Domani è un giorno Dal punto di vista energetico Molto particolare Poi va bene Dovremmo parlare Ma non è il momento Domani è un giorno Uno karma cinque Per cui è alla luce del sole Ed è all'insegna di Mercurio Che è il re della comunicazione Che significa Che il messaggio Che parte domani Quindi già a partire da adesso Non solo è un messaggio Autorevole e importante Ma che resta Nel tempo Perché è alla luce di Mercurio Che è il re della comunicazione Sole Mercurio Uno karma cinque Buonanotte a tutti E grazie Grazie In presenza Prima possibile Ciao Martia Oh Lella Ciao Ci sei anche Grazie 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 mille Io l'ho scritto Bellissima Oh Franca Ho scritto Nella chat Perché è interessante Perché è interessante Terminale Bloomberg Grazie Grazie tesoro Sei un amore prezioso Grazie 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 a voi Grazie a noi Grazie a tutti noi Domani Se riusciamo Apriamo una zoom Se no mandiamo tutta la nostra energia Adesso Grazie Grazie Amore A tutti Grazie 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 Grazie